Ciao e benvenuto al corso di Adobe Premiere Pro. Io sono Luca Uletta e sono un montatore e da sempre ho montato e utilizzato il software di Adobe per il montaggio video digitale, Adobe Premiere Pro. Oggi è arrivato alla versione Creative Cloud. Con questo corso rivolto sia ad amatori che a professionisti, voglio insegnarvi tutte le basi di questo grandioso software di montaggio. Adobe Premiere Pro infatti è utilizzato in tantissimi ambiti della produzione video, dai grandi commercial ai film hollywoodiani. Quindi è un software dalle grandi capacità, ma ha bisogno di essere conosciuto in fondo. In questo corso approfondiremo da zero tutti gli aspetti, i tool e le possibilità che questo programma ha da offrirci. Oltre alle lezioni puramente tecniche del software, ci saranno anche delle lezioni dove andremo ad approfondire degli aspetti del montaggio video. Questo corso diventa non solo il corso Adobe Premiere Pro, quindi per imparare ad utilizzare il software, ma anche per imparare a montare video. Il corso è organizzato in lezioni. Ogni lezione ha una durata molto breve, proprio per permettere la piena assimilazione dei concetti. Inoltre la curva dell'apprendimento è davvero molto elevata. Quindi spero che questo corso vi aiuti nella vostra crescita personale e professionale e vi permetta di poter realizzare grandi storie. Ciao e benvenuto al corso di montaggio con Adobe Premiere Pro. In questo corso voglio insegnarti tutte le basi del software di montaggio adatto alla realizzazione di video digitali per qualsiasi destinazione, che siano per il web, per la televisione o per il cinema. Adobe Premiere è un software completo che si occupa dalla gestione, l'ingest del materiale, alla trascodifica, al montaggio, alla fase successiva, che è quella di color correction, di compositing e gestire un completo workflow per la post-produzione digitale di video. Con Premiere Pro vengono montate tantissime trasmissioni televisive, prodotti di fiction e arriviamo anche fino al cinema. Le ultime realisi del 2016 sono Deadpool e il film dei fratelli Cohen Ave Cesare, che sono stati post-prodotti e montati con Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro lo troviamo all'interno del pacchetto Creative Cloud di Adobe, che è disponibile mediante abbonamento, ad un costo molto contenuto. Questo corso è diviso per lezioni ed ogni lezione ti guiderò passo dopo passo nel conoscere tutte le finestre e tutte le funzioni del software. E non solo, parleremo anche di tecniche di montaggio, tecniche di compositing e dell'integrazione con altri software, sia del pacchetto Adobe, sia di terze parti. Oltre a questo parleremo anche della lavorazione dell'audio, della titolazione e della grafica. Insomma, faremo un quadro completo su tutto quello che è il montaggio con Adobe Premiere Pro. In questa prima lezione faremo una panoramica generale di quello che è il software Adobe Premiere Pro, facendoci un'idea di quella che è l'interfaccia del software quando si apre, quindi come ci si presenta. Cominciamo a vedere quali sono i pannelli che ci vengono mostrati sin dall'inizio. Adesso abbiamo il pannello del monitor programma, con cui noi vedremo quello che stiamo montando. Abbiamo il pannello della timeline, dove noi andremo ad inserire i nostri clip. Abbiamo un pannello sulla sinistra che racchiude un'altra serie di pannelli, tra cui il pannello del progetto, il browser multimediale, le librerie e quant'altro. E infine abbiamo un quarto pannello e il monitor sorgente, con cui noi possiamo andare a vedere il materiale dal nostro pannello di progetto, andarlo a guardare e ricavarne delle parti da poter mettere nel nostro montaggio. Ma non solo, come potete vedere con queste bandierine, noi possiamo attivare altri pannelli che hanno altre funzioni. Queste funzioni naturalmente si attivano nel momento in cui noi selezioniamo una clip sulla timeline. In questo caso questo è un pannello di controllo degli effetti, abbiamo il mixer e abbiamo i metadati dei file. L'insieme di questi pannelli e la loro disposizione è chiamata area di lavoro. Dalla versione 2015 della Creative Cloud, in Premiere esistono e possono essere gestiti con molta più facilità queste aree di lavoro. In questo caso noi ci troviamo nell'area di lavoro del montaggio e quindi i pannelli sono stati organizzati e suddivisi per permetterci di lavorare al meglio nella fase di montaggio. Ma se noi clicchiamo nella banda qui superiore, ad esempio su assemblaggio, vediamo che l'insieme dei nostri pannelli viene spostata per permetterci di gestire meglio la fase di ingest, quindi per la fase di organizzazione del materiale iniziale. Quando noi importiamo i nostri contenuti, li organizziamo per poi passare alla fase di montaggio. E infatti l'area di lavoro successiva è quella del montaggio, che è esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi come possiamo vedere i pannelli si riorganizzano in modo da farci trovare una situazione più confortevole nel momento in cui non dobbiamo andare a montare. Come vedete qui ce ne sono altre che andremo ad esaminare poi nello specifico più avanti. Questo è per il color grading, quindi abbiamo l'area di lavoro colore, poi abbiamo l'area di lavoro di effetti, infatti vengono disposti molto meglio i pannelli per la gestione e la creazione di effetti sulle nostre clip e sul nostro montato. Infine ne abbiamo un'altra, quella per la gestione e la lavorazione dell'audio, ma ne possiamo avere tante altre ancora. Infatti i pannelli possono essere personalizzati, possono essere salvati e richiamati all'occorrenza. Come detto nella lezione precedente, noi possiamo gestire la nostra area di lavoro come più ci conviene. Naturalmente il software ci mette a disposizione una propria struttura per rendere confortevole il lavoro che stiamo eseguendo. In questo caso noi siamo nell'area di lavoro del montaggio e abbiamo a disposizione una serie di pannelli, come detto in precedenza, che ci aiutano in questa fase della lavorazione. Ma l'area di lavoro può essere totalmente personalizzata. Come vedete abbiamo detto che la struttura è suddivisa in pannelli, ma noi possiamo tranquillamente, passando con il cursore sulle linee divisorie dell'interfaccia, andare a spostare le linee divisorie per riorganizzare la nostra area di lavoro. Naturalmente possiamo creare le soluzioni più disparate. Ad esempio questa è la toolbox con tutti gli strumenti per poter lavorare in timeline, noi possiamo tranquillamente spostarla sulla destra, in questo modo, andando a riorganizzarla, quindi a stringerla, in questo modo. Oppure un pannello che utilizziamo più spesso ci dà fastidio in basso, possiamo tranquillamente spostarlo in un'area superiore. E come vedete, quando spostiamo un pannello ci si attiva questa semplice visualizzazione. Naturalmente adesso sto mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse e se lascerò il mouse in quest'area il pannello mi sarà messo al centro, quindi prenderà tutta l'area di questa zona qui. Se invece un pannello io lo sposto nell'area inferiore, questo dividerà lo spazio con i pannelli posti superiormente. Ancora io posso suddividere ancora quest'area, prendo un altro pannello, lo sposto nella banda di destra e questo dividerà a metà quello spazio. Così facendo ne potremo creare delle nostre aree di lavoro personalizzate per permetterci di lavorare molto piacevolmente e velocemente. Quest'area di lavoro che ho adesso creato io posso andarla a salvare come facendo dal menu finestra, spazio di lavoro, salva come nuovo spazio di lavoro. Possiamo dargli un nome e questo comparirà all'interno della nostra toolbox qui sopra dove possiamo richiamare le nostre aree di lavoro. Per tornare ad esempio a quella precedente basta cliccare sul montaggio. Attenzione, come vedete non è cambiato nulla. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo lavorato all'area di lavoro prova, tutte le modifiche non le abbiamo portate all'area di lavoro del montaggio. Quindi cosa significa? Se noi vogliamo ritornare all'area di lavoro montaggio come era in precedenza, basta fare finestra, spazi di lavoro, ripristina al layout salvato. Così facendo Premier ricorderà nelle preferenze come era l'area di lavoro del montaggio precedente e la riporterà in quello stadio. Adesso se clicchiamo sull'area di lavoro che abbiamo creato e salvato, che è quella di prova, possiamo vedere che lui rimetterà i pannelli come noi li abbiamo riorganizzati. Dato che adesso abbiamo riportato quella di montaggio a come era prima, possiamo andarla a richiamare e ritorniamo di nuovo a quella del montaggio classico. Naturalmente possiamo fare diverse operazioni con gli spazi di lavoro, come ad esempio andare a modificare la struttura. Possiamo ad esempio prendere la nostra area di lavoro appena creata prova, metterla all'inizio, dare ok e ci sposterà il pannellino qui davanti. Grazie a queste lineette accanto al nome dell'area di lavoro possiamo dire di ripristinare il layout, quindi se ad esempio noi facciamo una modifica di questo genere, possiamo cliccare qui e fare ripristina layout salvato. Possiamo salvare le modifiche se ne abbiamo apportate, ad esempio io sposto nuovamente l'interfaccia in questo modo, faccio salva modifiche apportate a questo spazio di lavoro e lui lo salverà. Quindi nel momento in cui passeremo ad un'altra e ritorneremo su prova, noi avremo di nuovo l'area di lavoro come l'abbiamo lasciata in precedenza o perlomeno come l'abbiamo salvata. E qui ancora possiamo ritornare al menu di modifica degli spazi di lavoro e possiamo prendere il nome, un'area di lavoro dalla barra superiore e spostarla, oltre che tra le altre possiamo spostarla nel menu oltre limite che sarebbe questa freccettina qui. Infatti adesso l'ho spostata, do l'ok e questa area di lavoro adesso la ritroverò qui. Come vedete io già ne ho alcune mie personalizzate, ma voi potete crearne quante volete di vostre. Non solo, i pannelli, ogni pannello ha una determinata funzione. Ci sono pannelli che vengono utilizzati ed altri che non vengono utilizzati e noi possiamo tranquillamente andare a rielaborare la nostra area di lavoro chiudendone alcuni o da prenderne altri. Ad esempio io non utilizzo la barra, il browser multimediale, quindi posso cliccare sul pulsantino delle opzioni e dire puoi chiudere il pannello o ancora posso andare nella cronologia e dire non voglio più che sia chiuso, non voglio che sia in questa posizione, ma voglio che venga disancorato. Così facendo noi creeremo una finestra che possiamo muoverci nello spazio, ridimensionarla a piacere cliccando nell'angolo in basso a destra della finestra o portarla ad esempio in un altro monitor se noi utilizziamo una struttura di montaggio sulla nostra scrivania con più di un monitor, quindi possiamo spostarla in un monitor piuttosto che un altro ed avere più finestre aperte contemporaneamente. In questa lezione andiamo a scoprire quello che è il pannello di progetto, ossia il pannello dove noi inseriamo tutti i nostri contenuti e dove li possiamo organizzare. Il pannello di progetto nell'area di lavoro di montaggio è disposto qui in basso a sinistra, ma naturalmente voi potete spostarlo dove più vi fa comodo e vi piace. Ad esempio lo spesterò in questa posizione perché così mi ritorna sempre all'occhio. In questo momento sono caricati all'interno di questo progetto una serie di file multimediali ed una sequenza. Arriverò poi a spiegarti nelle lezioni successive che cosa significa questa sequenza e come si caricano file multimediali all'interno di un progetto. Ma adesso scopriamo quello che è il nostro pannello progetto. Come vedete il pannello progetto si suddivide fondamentalmente in tre grandi aree. La prima, che è quella superiore, di ricerca e visualizzazione delle anteprime. La parte centrale, che è quella del contenuto, ossia che elenca il materiale presente nel progetto. E l'ultima parte, che è una toolbox dove noi possiamo operare determinate azioni cliccando su delle semplici icone. Cominciamo dall'inizio. Se io seleziono un qualsiasi file multimediale, nell'area superiore mi verrà data una veloce anteprima del file che sto guardando. Se clicco sul tastino play questa mi andrà in riproduzione. Mi verranno date una serie di info riguardanti metadata di questa clip, quindi il nome della clip, il formato, la grandezza del fotogramma, ci dà anche il valore del rapporto tra altezza e larghezza, ci dice la durata della clip, il frame rate, in questo caso i 25 fotogrammi al secondo P, sta per progressivo, e ci dà le caratteristiche dell'audio, quindi ci dà la profondità dei bit, quanti canali sono, quante tracce saranno, perché in questo caso abbiamo quattro canali mappato su quattro canali mono. Questa finestrina di anteprima può essere sia attivata che disattivata, come andando nelle preferenze del pannello di progetto. Come si attivano queste preferenze? Cliccando con il tasto sinistro sul pulsantino accanto al nome del pannello. In questo caso, oltre alle azioni classiche, cioè quelle relative al pannello in sé, quindi per chiuderlo, per disancorarlo e quindi spostarlo su un altro monitor, noi troveremo in basso alcune opzioni. Possiamo quindi attivare o disattivare l'area di anteprima. Facendo in questo modo abbiamo disattivato l'area di anteprima e abbiamo lasciato soltanto l'area dedita alla ricerca dei contenuti e la navigazione all'interno delle cartelle. Cartelle o raccoglitori, come possiamo chiamarle all'interno di Premiere, vengono chiamati raccoglitori delle folder, delle bin, delle cartelline che noi possiamo utilizzare per poter organizzare al meglio i nostri contenuti. Come si crea una cartella? In un modo molto semplice basta fare tasto destro all'interno dell'area vuota e cliccare sul nuovo raccoglitore. Possiamo nominarlo in qualsiasi modo ne vogliamo e possiamo assegnargli un colore così che possa essere più veloce la ricerca del materiale. Come cliccando col tasto destro, andando nella voce etichetta e scegliendo uno dei colori presenti all'interno del menu a tendina. Grazie alla possibilità di inserire dei colori noi possiamo poi selezionare solo un determinato gruppo di colori per poter gestire meglio il nostro progetto. Ma un raccoglitorio non si crea solo in questo modo, può essere creato anche cliccando su questa iconcina in basso nel nostro pannello nuovo raccoglitore che possiamo rinominare a sua volta e possiamo crearlo anche cliccando dal menu del pannello andando su nuovo raccoglitore. Naturalmente le operazioni che noi possiamo eseguire sono quelle di una classica finestra di un browser classico, quindi possiamo selezionare un elemento, trascinarlo all'interno di una cartella, possiamo aprirla con la freccettina accanto e possiamo mettere una cartella in un'altra sottocartella per poter organizzare il nostro progetto come meglio ci aggrada. Ma non sono solo queste le operazioni che possiamo fare all'interno del nostro pannello di progetto. Prima di tutto andiamo a vedere cosa ci mostra il pannello, che informazioni ci dà. In questa visualizzazione tipica detta ad elenco possiamo disporre i nostri oggetti sia in ordine alfabetico che in ordine alfabetico contrario ed avremo il nome del nostro oggetto, la frequenza dei fotogrammi e altre informazioni utili come ad esempio il timecode d'inizio della clip, il timecode di fine e quant'altro. E queste informazioni possono essere tranquillamente spostate e personalizzate come meglio che sia. Ma abbiamo anche un altro tipo di visualizzazione del nostro pannello di progetto che è quello a miniature. Quello a miniature è attivabile sia con quest'iconcina qui sotto oppure andando nel menu e selezionando icone, infatti noi andiamo prima nella visualizzazione ad elenco, adesso possiamo passare a quella ad icone, noi vedremo le icone di tutti i nostri oggetti presenti all'interno del nostro progetto. Posso cliccare su una cartella sul raccoglitore, posso tornare indietro cliccando su questo pulsantino qui che ci serve a navigare all'interno delle cartelle. Posso ricercare qualcosa, ad esempio c'era una cartella che si chiamava media, noi possiamo andarla a cercare e ci dirà dove è presente. Eccola qui. Posso chiudere la ricerca e tornare indietro. E qui noi potremo visualizzare tutti i nostri media che abbiamo caricato e non solo gli oggetti che abbiamo creato. Naturalmente le icone hanno trigger per poter visualizzare il loro contenuto e ci sono anche altre opzioni all'interno delle nostre opzioni del pannello. Ad esempio possiamo disattivare le miniature e attivare soltanto quelle che andremo a selezionare col mouse. Possiamo riattivarle e possiamo attivare ad esempio lo scorrimento al passaggio. Cosa significa? Che nel momento in cui passo sopra con il mouse, queste si animano per mostrarci il loro contenuto senza dover cliccare ma basta soltanto il passaggio del mouse. Naturalmente le ultime opzioni che troviamo disponibili sono ad esempio quelle per ingrandire i testi e il font del nostro pannello per poterlo leggere meglio. Diamo uno sguardo a quelli che sono i pulsanti del nostro pannello di progetto e abbiamo qui sotto una toolbar contenente delle icone. Andiamo un attimo a guardare tutte quante. La prima serve a visualizzare in formato elenco quello che è il contenuto del nostro progetto, infatti in questo caso è selezionato e quindi vediamo il materiale ad elenco. Il secondo pulsante serve ad attivare la visualizzazione ad icone, un po' così come è possibile selezionarlo andando nelle impostazioni di progetto. Possiamo nella visualizzazione ad icone zoomare o meno all'interno del nostro pannello per poter vedere le miniature più grandi o più piccole. Qui possiamo ordinare le nostre clip all'interno, possiamo ordinare i nostri contenuti all'interno del nostro pannello di progetto e selezionare tantissime modalità in cui vengano ordinate. Naturalmente si può creare un ordine utente, si può visualizzare e mettere in ordine per nome e per il tipo di etichetta perché è possibile assegnare delle etichette come cliccando sul tasto destro su un oggetto possiamo assegnare un'etichetta colorata. Quindi il software ci permette di metterle in ordine per etichetta, per la durata dell'oggetto multimediale e per quant'altro per tanti altri valori che possiamo selezionare e andare ad impostare all'interno dei metadati. Nella parte destra invece abbiamo una serie di tool molto utili, vi mostro subito come funzionano. Allora il primo tool che vi mostro è quello del nuovo elemento, ha la stessa identica funzione di andare nel menu e fare file nuovo, compariranno le medesime cose. Quindi noi potremo andare qui, cliccare e scegliere di creare una nuova sequenza, un file non in linea, un livello di regolazione, un titolo, un monoscopio, un video nero, un sottotitolo, un maschilino colorato, un monoscopio in alta definizione, un contatore universale e un video trasparente. Determinate cose le andremo a vedere nelle altre lezioni, ad esempio come si crea una nuova sequenza, abbiamo il pulsante per creare un nuovo raccoglitore, questo l'abbiamo già visto, abbiamo il pulsante per cercare all'interno del nostro progetto dei contenuti multimediali, abbiamo due colonne per poter cercare, per poter selezionare dei valori, possiamo scegliere ad esempio etichette, cercare tutte le etichette, tutte quelle colorate, ma possiamo scegliere tantissime altre metodologie, ad esempio per nome, possiamo cercare una parola e possiamo decidere di cercare questa parola, quindi che è contenuta all'interno del nome, che inizia con, che finisce con, che è uguale a, quindi abbiamo uno strumento di ricerca all'interno del nostro progetto, se abbiamo tantissimi contenuti caricati, molto molto comodo. Infine abbiamo quest'ultimo pulsante che vedremo in seguito questa fantastica funzione molto molto particolare. Andiamo ora a vedere quali sono le differenze tra il monitor programma e il monitor sorgente. La differenza principale è il fatto che sono disposti due monitor diversi che servono a guardare, a vedere due cose differenti. Allora, il monitor programma lo troveremo sulla destra e il monitor sorgente sulla sinistra. Il monitor programma ci permette di visualizzare quello che noi abbiamo sulla timeline, quindi se noi abbiamo più contenuti sulla nostra timeline e mettiamo in play, oppure triggeriamo con il mouse, possiamo vedere quello che noi abbiamo in timeline, il nostro, diciamo, il nostro montato. Mentre il monitor programma è quello che ci permette di previsualizzare le clip, come andando nel pannello del progetto, cliccando due volte su una clip, questa ci verrà aperta all'interno del nostro pannello sorgente, dove noi possiamo andarla a visionare e selezionare dei punti che ci possono tornare utili. Questi punti normalmente vengono detti in ed out, cioè un punto di in ed un punto di out. Sarebbero il punto di inizio e fine del nostro materiale che vogliamo estrapolare da questa clip. Questa porzione di video può essere quindi trascinata in timeline, come basta cliccare al centro dell'area del monitor sorgente e trascinarla sulla nostra timeline. Come vedete noi abbiamo trascinato due pezzettini che sono sia video, nella parte superiore, che audio. Ne possiamo mettere in play ed ascoltare anche l'audio. Se in questo caso noi avremo bisogno solo ad esempio di trascinare il video e non ci interessa dell'audio, possiamo cliccare su questa iconcina, possiamo trascinare solo la traccia video, quindi la trasciniamo. In questo caso abbiamo trascinato solo il video senza ottenere l'audio, ma possiamo fare anche il contrario, come cliccando su quest'altra iconcina noi trascineremo soltanto l'audio all'interno della nostra timeline. Naturalmente ci sono anche altre opzioni da poter utilizzare, ad esempio la prima è quella dello zoom dello schermo, noi possiamo andare a decidere una percentuale di zoom del nostro monitor e ci possiamo spostare lungo la visualizzazione con queste bande, oppure cliccare su adatta. Abbiamo il nostro timecode con cui poter scrollare con il mouse tenendo cliccato sopra e abbiamo la qualità di messa in play, adesso è impostata su massima, quindi quando io clicco su play vedo la clip nella sua qualità massima, ma se abbiamo del materiale troppo pesante noi possiamo abbassare la qualità, ad esempio un sedicesimo, e possiamo mettere in play, questo materiale poi ci verrà mostrato in preview a un sedicesimo della sua qualità. Questa funzione non si riferisce alla fase di pausa del nostro monitor, ma alla fase di playback, quindi quando noi andremo a cliccare play. Per modificare anche la qualità della pausa, quindi del fotogramma in pausa, noi possiamo andare nelle impostazioni del nostro monitor sorgente, che si attivano cliccando su questa iconcina qui in basso a destra, e possiamo dirgli di la qualità in pausa abbassarla a un ottavo, e adesso in questo momento stiamo guardando l'anteprima del nostro materiale a un ottavo della propria qualità. Ma noi possiamo poi decidere di vederlo, quando metteremo in playback, di metterlo alla massima qualità. Quindi noi così facendo stiamo vedendo un'anteprima a un ottavo della qualità, e quando metteremo in play, al massimo della qualità. In più abbiamo tantissime altre opzioni. Possiamo decidere di visualizzare, oltre al video composito, quindi stiamo vedendo l'immagine, possiamo decidere di vedere l'ossiloscopio audio, quindi quello che c'è all'interno dell'audio, solo le tracce audio. Oppure possiamo decidere di guardare tutto quello che è il canale alfa di un'immagine, in questo caso è tutto bianco, quindi non vedremo assolutamente nulla. Altre opzioni attivabili sono la riproduzione ad alta qualità, e lui metterà in massima sia la riproduzione che la pausa. Quindi lui sfrutterà al massimo le potenzialità di entrambe, sia in fase di riproduzione che in fase di pausa. Possiamo decidere di attivare il ciclo continuo, quindi se attiviamo il ciclo continuo e rimettiamo videocomposito e facciamo play, lui farà andare dal nostro in al nostro out la nostra clip in ciclo continuo, senza mai fermarsi. Se invece noi la disattiviamo, arrivato alla fine del punto di out, questa si fermerà. Per eliminare i nostri marker di in e di out di sequenza, basta cliccare col tasso destro e fare cancella attacco e stacco. Così facendo noi possiamo ritornare a mettere in play tutta la nostra clip e quindi a far andare in play anche ad esempio il ciclo continuo. Altre opzioni che noi possiamo attivare è il mostra unità di tempo audio, che non è altro il cambiamento del nostro timecode in millesimi e quindi non più in fotogrammi, adesso avremo i millesimi di secondo per poter visualizzare meglio, attaccare e fare dettagli audio più corretti. Possiamo attivare altre opzioni come ad esempio l'indicatore dei fotogrammi saltati e un semplice semaforo che ci dice nel momento del playback se il software non è in grado di riprodurre in tempo reale un determinato contenuto, ci mostrerà un semaforo rosso nel caso salti dei fotogrammi e se passiamo con il mouse sopra ci dirà quanti fotogrammi sono saltati all'interno della riproduzione. Altre opzioni che possiamo andare a visualizzare sono i margini di sicurezza. Questi margini di sicurezza servono per organizzare al meglio la composizione delle nostre immagini. Abbiamo di norma due riquadri di sicurezza, il primo che è quello per i titoli, quindi tutti i titoli e le grafiche del nostro contenuto, della nostra composizione dovranno risiedere all'interno del primo riquadro e tutte le azioni è meglio ritenerle sempre all'interno del secondo riquadro, mentre tenere il terzo come scorta. Questo perché una volta i vecchi televisori avevano un campo di crop e quindi tagliavano leggermente le nostre immagini e quindi era meglio tenerci sempre all'interno dei riquadri di sicurezza per evitare di tagliare i nostri contenuti. Possiamo andare a disattivare i margini di sicurezza ed attivare la griglia di trasparenza. Un'altra opzione derivata questa da Photoshop, in questo caso non abbiamo trasparenza all'interno dell'immagine quindi la nostra griglia non sarà visibile. Tutte queste opzioni che vi ho mostrato sono attivabili anche dai pulsanti qui sotto, da questa toolbar. Questa toolbar ci permette di inserire un in con questo tastino qui, di inserire un out, di inserire un marcatore che non è altro che un punto sulla timeline che noi possiamo andare a spostare che ci indica un determinato punto preciso ad esempio in cui dobbiamo effettuare una correzione. Possiamo spostarci nell'area temporale di fotogramma in fotogramma, andando avanti e indietro, cliccando il play, oppure possiamo spostarci all'attacco o alla fine. Abbiamo questi due pulsanti che vedremo successivamente. Infine abbiamo la possibilità di esportare un fotogramma della nostra clip, possiamo scegliere una destinazione e salvare il nostro fotogramma in diversi formati. Noi utilizziamo il gpg per convenienza. Questi pulsanti qui possono essere tranquillamente personalizzati cliccando sul più in basso al nostro pannello e possiamo scegliere quali icone voler avere sempre a disposizione. Ad esempio quella di margine di sicurezza possiamo trascinarla qui. Possiamo mettere anche il ciclo continuo perché sono le opzioni che forse possiamo utilizzare di più e selezioniamo ok. In questo caso abbiamo attivato il ciclo continuo in precedenza e quindi il pulsante rimane attivato. Possiamo disattivarlo ed attivare ad esempio i margini di sicurezza senza dover per forza andare nelle nostre impostazioni. Tutto quello che abbiamo detto sul monitor sorgente risulta essere identico all'interno del monitor programma. Quindi abbiamo le stesse identiche opzioni. Possiamo quindi visualizzare le nostre impostazioni cliccando su questi con cena. Possiamo vedere il video composito. Possiamo vedere l'alfa del nostro video. Qui a differenza possiamo attivare la visualizzazione multicamera che vedremo in una fase più avanzata del nostro corso. Stessa cosa possiamo andare a modificare la risoluzione delle nostre immagini in play quindi in riproduzione e in modalità di pausa. Possiamo al tempo stesso attivare tutte quelle funzioni che vediamo in precedenza e quindi poter personalizzare anche questa toolbox qui sotto cliccando con il tastino più. Questi pannelli come tutti gli altri possono essere tranquillamente disancorati e spostati in altre aree del nostro progetto oppure possono essere organizzati come meglio crediamo per poter organizzare la nostra area di lavoro più comoda per poter montare. Nel caso per sbaglio dovessimo chiudere un determinato pannello ad esempio quello del monitor di programma possiamo andare nel menu finestra ed andare a selezionare la voce monitor programma così facendone lo riapriremo nella sua posizione precedente. Quindi se la sua posizione precedente ad esempio era disancorata e noi lo andiamo a chiudere possiamo richiamarlo e ci verrà riaperto nella posizione precedente e quindi in questo caso disancorata ma ne possiamo prenderlo e riposizionarlo al suo posto. In questa lezione vediamo quello che è il pannello della timeline ossia dove passeremo la maggior parte del tempo a montare. Il pannello della timeline come detto nelle lezioni precedente è quest'area qui dello schermo che noi tranquillamente possiamo andare a ridimensionare come ogni altro pannello e come detto è l'area dove passeremo la maggior parte del tempo perché perché in quest'area noi possiamo andare a prendere le clip a spostarle nel tempo e quant'altro e ci sono tantissime posizioni da vedere in quest'area. Innanzitutto come detto abbiamo è l'area dove noi andiamo a inserire le nostre clip e queste inserite sono effettivamente le clip che abbiamo importato nelle lezioni precedenti nella nostra timeline. Abbiamo una serie di tracce video che in questo caso noi abbiamo di set 3 per il video e 4 per l'audio. Come vedete sono selezionate si possono selezionare o deselezionare quindi abilitare determinati effetti sulle clip sulle tracce selezionate o meno e abbiamo degli oggetti ma andiamo con calma. Cominciamo a navigare all'interno della nostra timeline. Il primo oggetto della timeline che vediamo subito è il trigger ossia questo oggettino che una volta manteniamo premuto e trasciniamo ci permette di vedere nel tempo quelle che sono le nostre clip montate, il nostro materiale montato. Il nostro materiale montato nel tempo parlavamo perché qui sopra abbiamo la barra del tempo qui sono a 30 secondi qui a un minuto e quant'altro. La timeline non ha un limite temporale e il limite temporale naturalmente è dato dal contenuto della stessa quindi se noi montiamo 20 ore di materiale abbiamo 20 ore di timeline. Questa è la timeline della sequenza 1. Andremo a vedere dopo nello specifico che cosa significa. Andiamo a vedere adesso questi numerini qui. Questo è il nostro timecode ossia la posizione dove si trova il nostro trigger che è questo qui. Come vedete nel momento in cui lo vado a spostare il numero in questo lato qui dello schermo cambierà quindi adesso siamo a 28 secondi e 12 fotogrammi in questa esatta posizione. Noi possiamo andare a modificare il valore qui se vogliamo andare a 20 secondi precisi. Modifichiamo il numero e il trigger si sposterà automaticamente in quel preciso punto che abbiamo selezionato. Adesso cominciamo a vedere tutte quelle che sono le opzioni. Cominciamo subito da quelle che vediamo selezionate. Allora abbiamo selezionato di base questa iconcina che è l'effetto calamita. L'effetto calamita cosa significa? Che se io sposto una clip quando arrivo in prossimità della prossima o di qualsiasi altro oggetto lui fa un effetto calamita. Come vedete io se mi avvicino al trigger lui farà effetto calamita con il trigger o se lo faccio ad esempio al contrario con quest'altra clip lui in automatico si aggancerà alla mia clip. Questo è l'effetto calamita dalla timeline che può essere attivato o disattivato e questo funziona con tutti gli oggetti. Se ad esempio seleziono questi due oggetti e mi avvicino al trigger questo farà effetto snap da calamita. Allo stesso modo posso farlo dall'altro lato e quindi farà effetto calamita anche se da questo altro lato. L'effetto calamita viene indicato da queste due freccettine che adesso non posso mostrarvi perché ho le clip selezionate queste due freccettine bianche che vi indicano la posizione precisa in cui avverrà lo snap. Questo snap può essere attivato o disattivato in questo caso l'ho disattivato quindi posso prendere il materiale. Vedete se mi avvicino non fa effetto calamita quindi devo fare attenzione che posso andare a sovrascrivere altro materiale in questo caso. D'accordo? Quindi le operazioni che si possono fare sono tantissime. L'effetto calamita è utile in alcuni casi ed è meno utile in altri quindi è possibile attivarlo e disattivarlo cliccando su questa iconcina. Adesso abbiamo quest'altra la selezione collegata. Come vediamo in questo caso noi abbiamo sulla timeline delle clip che sono solo video. Queste qua sono solo video. questa è una clip solo audio e questa invece è una clip con audio e video ed è collegata insieme. Noi quindi se selezioniamo una sola delle due porzioni quindi se seleziono il video e lo trascino porterà con sé anche l'audio. Se seleziono in questo caso l'audio porterà con sé anche il video. E quindi noi abbiamo questi due oggetti sono collegati tra di loro. Se io seleziono questa funzione se seleziono soltanto una delle due tracce anche se sono collegate tra di loro perché audio e video in questo caso sono collegati. Come vedete posso spostare sia solo uno e solo un altro. E dato che in precedenza questa clip e questa qui erano collegate quindi da un timecode univoco mi dice questa in quanto è distante rispetto a quest'altra in questo momento di 6 secondi e 5 fotogrammi. Quindi io posso andare a spostare di 6 secondi e 5 fotogrammi e riallineerò le due clip. Che cosa significa che le due clip sono unite? Quindi riattiviamo la selezione di clip collegata e quindi adesso ho di nuovo e nuovamente la clip collegata. Abbiamo poi lo strumento marcatore. Come detto in precedenza per il monitor per i monitor dove possiamo aggiungere i marker lo possiamo fare allo stesso modo oltre che per le clip anche sulla timeline. E questo naturalmente il marcatore che noi possiamo andare ad aggiungere lo aggiungiamo in base a dove si troviamo. Vi faccio un esempio pratico. Se mi trovo in questo punto della timeline e voglio aggiungere un marcatore io lo posso fare da questo punto qui. Così facendo aggiungerò un marcatore temporale sulla mia timeline. Ma se io camminando seleziono una clip in particolare e clicco sul pulsante del marcatore, questo marcatore verrà inserito nella clip e non sulla timeline. Cosa significa che è stato inserito sulla clip? Che se io clicco due volte su questa clip e mi si apre nel pannello del monitor sorgente io mi troverò il marcatore in questo determinato punto. Ok? Quindi questo è per aggiungere un marcatore sia sulla nostra timeline sia sulla nostra clip. Come potete immaginare questo pulsantino qui serve per aprire le preferenze della timeline che andremo a vedere tra pochissimo. Questo pulsante in particolare lo andremo a vedere nelle fasi più avanzate del montaggio perché riguarda un argomento che tratteremo più avanti. Quindi vi mostro ancora quelle che sono le opzioni del nostro della nostra timeline e abbiamo per ogni traccia video e ve ne sono diverse e ne possiamo aggiungere quante ne vogliamo. Abbiamo il pulsantino per attivare o disattivare la quella determinata traccia. Per attivare o disattivare la sincronizzazione abbiamo il nome della traccia ed abbiamo un pulsante che un catenaccio che ci serve a bloccare quella determinata traccia con cui non possiamo fare più operazioni. Vi faccio notare una cosa. Avendo bloccato la traccia superiore, quindi non posso selezionare il video di questa clip, noi ricordiamo che questa clip è unita a quest'audio, d'accordo? Questo e questo sono uniti tra di loro. In questo caso io posso andare a spostare solo l'audio anche se non ho disattivato questa funzione, quella della selezione collegata. Questo perché io realmente ho bloccato in quella posizione tutta la traccia video numero uno, quindi anche questo oggetto qui. Quindi in questo caso posso andare a spostare l'oggetto che è sì collegato a quell'altra clip, però come vedete mi darà lo stesso errore, no errore, lo stesso, la stessa indicazione precedente e mi dice che sono, ho spostato questa clip più avanti di tre secondi e quattro fotogrammi. Tutte queste opzioni sono attivabili e possono essere lavorate su tutte le altre tracce, quindi dalla traccia audio numero uno alla audio numero due, così via, e ne possiamo aggiungere anche altre di tracce, ma lo vedremo successivamente quando andremo a parlare solo di come lavorare con le tracce in Adobe Premiere. Andiamo a vedere invece adesso quelle che sono le opzioni della nostra timeline. Cliccando su questo pulsantino ci si aprirà un pannellino dove possiamo vedere diverse opzioni selezionabili di cui possiamo parlare. Come si naviga all'interno della nostra timeline? Noi sotto la timeline abbiamo questa barra che se ci clicchiamo sopra possiamo andare avanti e indietro nel tempo o possiamo zoomare, quindi riducendo lo spazio di questa barra e continuare a spostarci nel tempo. Naturalmente ci sono i controlli da tastiera per far questo che sono il più e il meno, con il meno torniamo indietro e che noi andiamo avanti. Per allargare lo spazio della traccia, questo è lo spazio della nostra traccia, noi possiamo passare con il nostro indicatore su quello che è la traccia che vogliamo allargare, possiamo selezionare e renderla più visibile, quindi un pochino più grande. Quando faremo questa operazione quello che ci comparirà sarà anche una miniatura. in questo caso è attivata l'impostazione che noi possiamo guardare la prima miniatura dell'anteprima del primo fotogramma di questa clip. Stessa operazione possiamo farla con l'audio, questa è una traccia audio, se io vado e trascino sotto la traccia audio numero 1, comparirà quella che è la forma d'onda dell'audio. Se zoomiamo possiamo vedere quella che è la traccia audio. Queste operazioni possono essere fatte anche con la rotellina del mouse, passando con il cursore sopra al nome della traccia che vogliamo allargare, possiamo utilizzare la rotellina del mouse per allargarla di quanto ci fa più comodo. Questo vale sia per l'audio che per il video. Tornando indietro, torniamo alle nostre miniature. perché andando nel pannello delle proprietà delle impostazioni abbiamo diverse opzioni. La prima fra tutte è quella che ci chiede se vuole che ci mostri le miniature oppure no. Se la deseleziono infatti non ci mostrerà le miniature. La riattiviamo. La seconda opzione è quella di mostrare la miniatura, di mostrare i fotogrammi chiave del video. I fotogrammi chiave sono i keyframe d'animazione. È una cosa che vedremo più avanti. Però sappiate che questa opzione serve per abilitare la visione dei fotogrammi per il video, mentre per l'audio sono sempre attivi, a meno che non li disattiviamo e sono rappresentati da questa linea. Ma andremo a vedere più avanti di di cosa stiamo parlando. Possiamo abilitare la visualizzazione del nome della clip oppure la di possiamo disabilitarla. Possiamo ancora andare a selezionare di voler vedere la forma d'onda dell'audio. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad allargare una clip audio possiamo decidere di guardare la forma d'onda che è questa o possiamo disattivarla. Al tempo stesso come vi dicevo le chiavi per l'audio sono già preattivate. Naturalmente vi spiegherò più avanti come ci si lavora con queste chiavi, che cos'è questa linea in particolare che vediamo sulle nostre clip audio. Però possiamo volendo disattivarla anche se di base è già attiva. E allo stesso tempo possiamo mostrare il nome della clip audio. Normalmente questa è disattivata perché la maggior parte delle clip audio che noi andiamo ad importare fanno parte e sono collegate già delle clip video. Quindi le clip video registrate che già hanno l'audio incorporato. E quindi basta mostrare il nome della clip video per poter ricordarsi di che cosa si tratta. Ma nell'eventualità avessimo tantissimo materiale registrato a sé e quindi abbiamo necessità di guardare e di vedere anche il nome della clip audio, possiamo abilitarla in questo modo. Possiamo guardare possiamo abilitare i marcatori delle clip e con questa funzione noi possiamo abilitarli oppure no. Quindi posso deselezionare e non ci mostrerà i marcatori delle nostre clip ma soltanto quelli della nostra sequenza. Altre opzioni che possiamo andare a che sono di rilevanza possiamo vedere possiamo mostrare l'icona degli effetti. Cosa significa? Se noi applichiamo un effetto come vedete accanto al nome della clip è presente un'iconcina che è quella dell'effetto. Quando non vi è applicato alcun effetto alla clip questa iconcina risulterà grigia. Quando invece applicheremo un qualsiasi effetto alla nostra clip, ad esempio ne prendo uno qualsiasi, questa diventerà viola. Ciò significa che vi è applicato un effetto. Noi possiamo disabilitare l'iconcina e quindi toglierla dalla nostra visualizzazione. Altre operazioni che possiamo fare velocemente sono quelle di ridurre ad esempio tutte le tracce video ed audio, quindi ridurle tutte quante al minimo possibile. Possiamo espandere tutte le tracce, quindi ad una grandezza standard possiamo allargarle tutte quante. Possiamo salvare come predefinito quelle che sono le nostre preferenze e gestire tali predefiniti. Quindi se ad esempio vogliamo mostrare una cosa piuttosto che un'altra ed è comodo utilizziamo sempre questi determinati tipi di funzioni, possiamo salvare le nostre preferenze, un po' come facciamo con le aree di lavoro, e richiamarle sempre all'occorrenza. Questo è come gestire e lavorare con la nostra timeline. Naturalmente un'ultima cosa di cui non vi ho parlato è come navigare all'interno della nostra timeline, non solo in orizzontale quindi nell'asse del tempo, ma per visualizzare tutte le nostre tracce. Praticamente basta spostare, utilizzare la nostra rotellina del mouse per andare su e giù e visualizzare tutte quelle che sono le tracce presenti e le clip presenti all'interno del nostro montato. Altre funzioni che si possono utilizzare non sono soltanto quelle della timeline in sé, ma sono tutte quelle che noi possiamo attivare cliccando con il tasto destro sugli oggetti all'interno della nostra timeline. Queste naturalmente sono delle funzioni che si riferiscono alle clip in particolare. Diamo uno sguardo generale, le vedremo molto più approfonditamente quando parleremo del montaggio, però abbiamo le opzioni per tagliare, per copiare, per cancellare, per modificare le clip, per scollegarle, per scollegarle e quant'altro. Un'altra funzione però interessante che voglio mostrarvi adesso è quello per eliminare i salti. Cosa sono i salti? Ad esempio io ho questo gruppo di clip qui e ho questa clip da quest'altro lato. Io ho questo salto spaziale nel mezzo. Se io ci clicco sopra io posso selezionarlo questo spazio e se faccio tasto destro posso eliminarlo. Cosa significa? Cliccando su elimina lui mi eliminerà quello spazio vuoto e mi unirà insieme le due clip. D'accordo? Io posso continuare a farlo all'infinito, non elimino porzione della timeline, attenzione. Elimino soltanto lo spazio vuoto che io ho selezionato. Eliminare i salti non è sempre fattibile. In che senso? Se io seleziono questo tipo di salto qui ho messo delle clip in una determinata posizione. Quindi se voglio eliminare questo salto qui clicco col tasto destro e mi dà l'opzione fattibile per eliminare i salti. Provo a selezionare invece tutto questo spazio di audio qui, faccio tasto destro, mi dice che non è possibile eliminare tutti i salti. Stessa cosa se farò col tasto destro qui o se lo farò qui sopra qui. Questo perché? Perché gli unici oggetti in questa situazione dove è possibile eliminare uno spazio è esattamente questo. Quindi questo spazio qui posso eliminarlo e saranno tirate con sé tutte le clip adiacenti. In questo modo noi otterremo, abbiamo la possibilità di eliminare molto facilmente questi spazi temporali che si possono creare durante le nostre fasi di montaggio. Ultima funzione che voglio mostrarvi, l'ultimo pulsantino che voglio mostrarvi all'interno dell'area della timeline, quindi del pannello della timeline, è questo qui. Questo pulsantino serve a dissociare il movimento sincronizzato tra le tracce. Mi spiego cosa significa. Prima vi ho mostrato che quando un elemento è legato, ad esempio questo elemento, sono due elementi legati audio-video, sono raggruppati, se io disattivo questo pulsantino qui, posso spostare nel tempo soltanto una delle due tracce, d'accordo? E spostandolo rimarranno comunque collegate tra di loro e quindi ci indicheranno quali sono i ritardi rispetto all'altro. Bene, quest'altra funzione ha lo stesso medesimo utilizzo, solamente che parliamo adesso delle azioni rispetto alla timeline. Quindi se io disattivo questa funzione, quindi la sincronizzazione, e decido di eliminare i salti, come vi ho mostrato poco fa, quando andrò a eliminare il salto, lui cosa farà? In pratica lascerà tutte le tracce che non sono sincronizzate nella posizione dove erano, così da non muoverle. Ma essendo però due elementi collegati tra di loro, indicherà, manterrà l'indicazione di quanto sono distanti l'uno dall'altro. Questa funzione naturalmente è valida solo per le tracce, quindi cosa significa? Che se io continuerò a cliccare sulla clip, io andrò a spostare sempre entrambe le clip contemporaneamente, perché sono collegate tra di loro. Se io vado a disattivarla, questa continuerà a funzionare, soltanto nel momento in cui adesso eliminerò il salto, porterà con sé anche quest'altra clip qui. Un altro dei pannelli che utilizzeremo spesso è il pannello effetti. In particolare nella modalità montaggio, quindi nell'area di lavoro montaggio, troviamo questo pannello in uno di questi qui, che troviamo in basso a sinistra. Nel particolare specifico, quello effetti è questo qui. Il pannello effetti che cosa fa? Praticamente racchiude tutti quelli che sono gli effetti video presenti all'interno di Adobe Premiere Pro. Quindi potremo trovare all'interno effetti video, effetti audio, transizioni video, audio, preset per le animazioni e preset per i colori. Vi faccio un esempio. Abbiamo dei menu a tendina molto semplici, ad esempio se apro effetti audio posso visualizzare tutti gli effetti audio presenti, posso trascinarli sulla clip che voglio andare a modificare, posso andare a modificare i valori ancora in un altro pannello che è quello del controllo degli effetti. Un'altra modalità per aggiungere un effetto oltre a trascinarlo è quello di selezionare la clip in timeline e cliccare due volte sull'effetto desiderato, così facendo lui la applicherà a quella clip. La particolarità del pannello degli effetti è quella della possibilità di poter cercare, se noi conosciamo il nome dell'effetto che vogliamo applicare, ad esempio voglio prendere un compressore multibanda e mi è bastato scrivere mul per poterlo ottenere e trascinarlo sulla clip di destinazione che dovrò lavorare. Naturalmente è possibile creare dei set personalizzati, ad esempio ho una cartella dove ho scritto predefiniti e sono gli effetti che io più utilizzo. Attenzione, gli effetti rimangono sempre nelle loro posizioni, ma noi cosa possiamo fare? Andare a prendere un effetto in particolare, ad esempio prendo questo, posso cliccarlo e trascinarlo nella mia cartellina. Così facendo io avrò un semplice collegamento che è anche visibile dall'iconcina con una freccettina, quindi un alias, con cui io posso andare ad applicare l'effetto senza doverlo ricercare tra tutte le miriadi di cartelle, ma li ho tutti quanti selezionati e pronti all'uso. Come farlo? Si possono creare delle cartelle dei raccoglitori con questo pulsantino, possiamo scriverci quello che vogliamo e possiamo andare a creare le nostre collezioni di effetti che più utilizziamo per determinati lavori o circostanze. Queste cartelle possono naturalmente poi essere eliminate in questo modo, cliccando su questo iconcino a forma di cestino. Un'altra funzione che noi possiamo abilitare nella ricerca dei nostri effetti è quella di filtrare quelli che sono gli effetti per tre categorie in particolare. Quella per gli effetti accelerati, quelli là quindi veloci, che sono delle sorte di preset che noi possiamo posizionare sulla nostra clip e questa senza dover modificare nulla già è effettata. Oppure possiamo selezionare effetti a 32 bit, ho una selezione di filtri entrambi, quindi ad esempio tutti i filtri che funzionano con profondità colore di 32 bit saranno visibili a noi, oppure quelli là con lo spazio colore UB. Quindi noi possiamo andare a selezionare questo tipo di filtro e ci mostrerà soltanto gli effetti che corrispondono a questo spazio colore qui. Questo è il nostro pannello effetti. Un'altra cosa che possiamo trovare all'interno del pannello effetti è la categoria dei predefiniti lumetri. Dei lumetri e del color grading ne parleremo più avanti, ma voglio mostrarvi questa cosa perché fa parte del pannellino degli effetti. Se apriamo una delle qualsiasi cartelle inerenti un preset di color grading vediamo che si apre una sorta di anteprima dell'immagine. Infatti se noi andiamo a cliccarci sopra noi possiamo visualizzare delle anteprime di quelle che sono le correzioni colori. Se vogliamo eliminare questo tipo di visualizzazione basterà cliccare in qualsiasi altra area del pannello degli effetti e questa scomparirà perché questa è una modalità di visualizzazione che si attiva soltanto quando si entra in una cartella o sottocartella che contiene degli effetti colore che possono naturalmente essere applicati. Più avanti poi vedremo come vengono lavorati, come vengono realizzati questi effetti e anche come creare dei preset nostri da poter utilizzare per creare i nostri video. Adobe Premiere Pro è disponibile sia in versione per Mac che per Windows come tutti i software della suite Adobe. Ma c'è una differenza sostanziale, forse è unica per quanto mi riguarda, la differenza tra la versione Mac e la versione Windows. Il software è praticamente lo stesso sia nell'interfaccia sia nei comandi. Forse la differenza più classica fa parte del sistema operativo, ossia che in Mac tutti i menu sono all'interno della barra superiore del sistema operativo mentre in Windows si ha questo menu all'interno della schermata del proprio software. Questa è la differenza visiva più enorme ma il menu è praticamente lo stesso. Altra differenza invece, forse l'unica sostanziale, reale, è quella per le scorciatoie da tastiera. Questo perché in Premiere, invece, in Premiere come in tanti altri software, sia di grafica che di altri utilizzi, si lavora tantissimo con le scorciatoie da tastiera. Che cosa sono le scorciatoie da tastiera? Se io sto lavorando a una determinata grip e vuoi attivare una determinata funzione, ad esempio uno strumento in particolare che vedremo dopo, che è la lametta per il taglio, io devo andare con il mouse, selezionarla, effettuare l'operazione e tornare alla modalità precedente e quella del cursore per la selezione. Nel fare questo passaggio ogni volta si perde tanto tempo e quindi esistono le scorciatoie da tastiera. Sono delle scorciatoie, sono delle chiavi che si possono selezionare sulla nostra tastiera che ci permettono di poter selezionare velocemente uno strumento piuttosto che un altro. Ad esempio, quella più classica per quanto riguarda il montaggio in Premiere sono la C e la B. La C una volta cliccata mi aprirà lo strumento della taglierina, mentre la B mi riporterà alla freccetta. D'accordo quindi al nostro cursore di selezione. Queste sono le due scorciatoie più utilizzate, naturalmente. E come vi dicevo prima, l'unica differenza più grande tra Windows e Mac è il fatto che in parecchio di queste scorciatoie da tastiera, dove per Windows è presente il tasto Control, per Mac è presente il tasto Command. Quindi sono le stesse identiche scorciatoie, soltanto che in uno è presente C3L e nell'altro è presente il tasto Command o in alternativa il tasto Alt che in Mac ha una funzione un pochino diverso, che noi possiamo andare sia a guardare quali sono, sia a personalizzarle. Come? Andando per Windows si modifica preferenze, mentre per chi ha in Mac sul nome del programma possiamo andare in scelte rapide da tastiera. Cliccando su scelte rapide da tastiera noi possiamo aprire questo pannellino dove sono contenute tutte le funzioni che possono essere abilitate in Premiere, tutte quante, con le relative scelte rapide da tastiera, nel caso siano inserite e quindi impostate, altrimenti possiamo tranquillamente impostarle di nostre. Ad esempio impostazione di sovrapposizione, che è una funzione in particolare della timeline. Qui non è specificata una scelta rapida, noi possiamo cliccarci due volte, ad esempio in questo caso non so mettere una combinazione di tasti, faccio ad esempio C3L Command E, e così lui creerà una questa funzione, una scelta rapida per questo tipo di effetto, per questo tipo di comando, che una volta fatta questa combinazione di tasti mi attiverà questa funzione mentre sto lavorando. Con questa X accanto al comando posso tranquillamente cancellare la scelta rapida e posso andare a selezionare tantissime cose. Ad esempio, vi faccio un esempio in particolare. Una funzione che possiamo attivare sulla nostra timeline è quella di poter andare a modificare il guadagno audio delle nostre clip. Questo pannellino lo vedremo più avanti nelle nostre lezioni future, però è un pannellino che utilizzeremo tantissime volte. Ma è scomodo arrivarci perché bisogna cliccare col tasso destro sulla clip e fare guadagno audio. Noi cosa possiamo fare? Andiamo nelle scelte rapide della tastiera, scriviamo nel campo di ricerca guadagno audio e vediamo che il guadagno audio ha una scelta rapida preimpostata. basta cliccare con la lettera G sulla nostra tastiera e abbiamo subito accesso a questo tipo di pannellino qui. Tutte queste preferenze della tastiera possono essere modificate, possono essere salvati dei layout. Infatti per chi viene da software di montaggio come Media Composer di Avid e Final Cut Pro 7 possono impostare le stesse scelte rapide della tastiera per le stesse medesime funzioni in Premiere, oppure è possibile salvare dei propri layout delle tastiere in base al proprio modo di lavorare, oppure andare a spulciare tutte quelle che sono le scelte rapide di Premiere Pro per lavorare al meglio. Vediamo ora come è possibile creare un nuovo progetto all'interno di Adobe Premiere Pro. La prima strada naturalmente è quella di cliccare sul menu File, Nuovo, Progetto, nel momento in cui abbiamo già aperto il nostro software. La schermata che ci si aprirà è la medesima, quella del nuovo progetto, che apriremo cliccando sulla voce Nuovo Progetto quando avvieremo per la prima volta Premiere. Questa è la schermata di benvenuto del Adobe Premiere che vi consiglio di tenere attivata perché tiene conto di tutti i vostri ultimi progetti. Possiamo crearne uno nuovo e quello che si aprirà è lo stesso pannello del precedente. Andiamo un attimo ad analizzare quello che è questo pannello. Abbiamo naturalmente la voce Nome, dove possiamo mettere il nome del nostro nuovo progetto. La posizione, ossia la cartella in cui verrà salvato. E abbiamo due flag, due pannellini con delle opzioni. Andiamole un attimo a guardare. La prima ci chiede che sistema di riproduzione vogliamo utilizzare all'interno di Premiere una volta aperto il progetto. Abbiamo a disposizione due voci, quella solo software, quindi utilizzerà il software Mercury Playback Engine, che è il motore che si trova alla base del calcolo in tempo reale del software, che sforzerà e utilizzerà la CPU. Ed abbiamo l'accelerazione via GPU. In questo caso sono su Mac, quindi utilizzo le OpenCL. A differenza si può utilizzare su Windows una macchina con chipset Nvidia e quindi utilizzare la GPU Nvidia. Possiamo scegliere poi nel secondo riquadro come vogliamo visualizzare il nostro timecode. quindi ci chiederà se vogliamo vedere il nostro timecode in italiano tradotto codice di tempo in fotogrammi, oppure utilizzare la visualizzazione per fotogrammi se si gira in 35 mm o 16 mm. Nell'apparato audio vediamo subito come vogliamo visualizzare il nostro materiale, se vogliamo visualizzare i campioni audio oppure vogliamo visualizzare i millisecondi. Ancora più in basso possiamo decidere, nel caso dovessimo acquisire del materiale da cassetta, se vogliamo acquisirlo con base dv oppure hdv. Questa spunta possiamo visualizzare il nome del nostro progetto e colorare le etichette per tutte le istanze che verranno create. Non è un'opzione importante, possiamo tranquillamente lasciarla disattivata. Mentre se andiamo nell'altra flag troveremo un'altra serie di parametri molto importanti. Premiere una volta creato un nuovo progetto non creerà soltanto un file ma anche una serie di cartelle. Serie di cartelle che servono per archiviare del materiale. E qui possiamo decidere questa serie di cartelle dove poterla inserire all'interno del nostro computer. In primo luogo io ho realizzato una cartella su un hard disk di backup dove, chiamata cache questa cartella, ed ho inserito come valore di base sempre il medesimo percorso, così da trovare sempre tutto il materiale in una sola posizione. Anche nel momento in cui ad esempio in un futuro dopo aver lavorato a 100 progetti si sarà creata una cache molto ma molto pesante, noi sappiamo esattamente all'interno del computer dove andare a cercare quel materiale e selezionare e cancellare quello che non ci interessa più. Quindi vediamo subito voce per voce di cosa stiamo parlando. Allora video acquisito quindi se acquisiamo del materiale come detto prima in dv o in hdv sceglierà come percorso per salvare i nostri file questa cartella. Noi possiamo tranquillamente cliccare su sfoglia e scegliere un percorso diverso. Stessa cosa per l'audio acquisito quindi se acquisiamo audio in quale cartella deve essere posizionato. Ancora una cartella diversa per le anteprime video. Premiere accanto al file di progetto creerà sempre una cartella per le anteprime, per il calcolo delle anteprime. Infatti poi tutte le anteprime che andremo a calcolare verranno salvate in questa cartella. Per me il percorso della cartella è il medesimo delle altre. Stesso concetto si applica a quello delle anteprime audio quindi se elaboriamo un mixing audio che ha bisogno di un pre-render le anteprime audio saranno salvate in questa cartella. Premiere insieme ancora al file di progetto oltre a creare una cartella per le anteprime creerà anche una cartella per i salvataggi automatici. Infatti Premiere avrà sempre con sé almeno 5 file di salvataggio automatico che salverà in automatico dopo un tot di tempo salva una versione. Una volta arrivato al numero 5 comincerà a sovrascrivere dalla prima. Di norma questa cartella viaggia di pari passo con la cartella del progetto quindi dove si trova il file di progetto. Però io per comodità utilizzo sempre la stessa cartella di cache così che so sempre dove andare a ripescare il materiale. Stessa cosa infine per l'ultima voce. Questa è stata aggiunta da qualche versione a questa parte e parliamo delle librerie della Creative Cloud. Premiere facendo parte del pacchetto dopo Creative Cloud entra a far parte di quel gruppo di applicazioni che sfruttano le librerie in comune salvate sul cloud. Naturalmente queste librerie una volta che noi andiamo a salvarle e richiamarle hanno bisogno di una cartella di destinazione e questa nel mio caso è sempre la stessa. Quindi una volta deciso tutti questi parametri che tra le altre cose una volta selezionati per la prima volta rimarranno standard. Noi possiamo cliccare ok e così Premiere creerà il nostro progetto vuoto. Una volta creato il nostro progetto il prossimo passo da fare è quello di creare una nuova sequenza. Creare una nuova sequenza ossia significa popolare quello che è il pannello della timeline. Allora per creare una nuova sequenza abbiamo più strade diverse. Allora la prima strada che noi possiamo utilizzare è quella di fare dal menu file nuovo sequenza. Questa è la prima strada. La seconda invece l'abbiamo nella cartella nel pannello progetto. Il pannello progetto come avevo mostrato all'inizio ci sono delle icone qui in basso. Se noi clicchiamo su un nuovo elemento possiamo selezionare nuova sequenza. Quindi cliccando su una sequenza ci si aprirà lo stesso pannellino. In alternativa un'altra modalità per poi per poter creare una nuova sequenza è quella di trascinare un oggetto multimediale già presente all'interno del nostro progetto all'interno della finestra vuota del pannello vuoto della timeline. Ma andiamo a creare in modo classico una nuova sequenza e andiamo a vedere quelle che sono i parametri e le impostazioni che possiamo sia utilizzare che personalizzare. Naturalmente una sequenza ha bisogno di regole da seguire quindi dal formato, il codec di base, il framerate, la spectrazio e quant'altro. Premiere ci mette a disposizione una serie di preimpostati in base ai codec e alle codifiche delle varie macchine da presa disponibili attualmente sul mercato e sono sempre molto ben aggiornate. Allora abbiamo a disposizione, ad esempio, faccio una carrellata veloce formati per ARRI, formati per l'AVC INTRA, per l'AVCHD, per il formato XF di Canon, per le digital SRL che si basano sul codec H.264. Abbiamo a disposizione il DNX HD e HR di Avid. Abbiamo a disposizione i formati in DV dal pallare NTSC al 24P, quelli di Panasonic, l'HDV classico, formati RED e formati Sony. Allora, noi possiamo scegliere in qualsiasi momento qualsiasi di questo formato senza alcun problema e andare a modificare anche in seguito quelli che sono i parametri di base. Da essere consapevoli, naturalmente, che se il nostro lavoro deve essere consegnato in alta definizione in Full HD con 25 fotogrammi al secondo, è naturale che dovremo avere almeno una timeline basata su un frame di 1920x1080 e 25 fotogrammi al secondo. Se di norma si gira con una DSLR, si può utilizzare tranquillamente questo formato di timeline qui, DSLR 1080 più 25, basta cliccare ok, possiamo dare anche un nome alla nostra sequenza, quindi se mettiamo sequenza 1, mettiamo la 1, diamo ok. E così facendo noi abbiamo ottenuto la nostra sequenza che viene aperta in automatico essendo la prima dell'interno del progetto e la prima sequenza a comparire e a trovarsi all'interno del nostro progetto. Ma andiamo a vedere nello specifico, creando una nuova sequenza, di che impostazioni stiamo parlando. Possiamo andare, oltre al pannellino dei prefi definiti, possiamo andare nelle impostazioni e qui troveremo quelle che sono le impostazioni, diciamo, avanzate o personalizzabili delle nostre sequenze. Noi, in questo caso, possiamo addirittura creare dei nuovi preset, questi naturalmente sono dei preset e noi possiamo crearne dei nostri. Allora, partiamo subito da scoprire quelli che sono i valori nei campi che troviamo davanti. Abbiamo modalità di montaggio. Diciamo che qua lui considera come se fosse il codec di base, anche se è errata come concetto, però lui prende di base quelli che sono i parametri con cui queste determinate macchine registrano. Ad esempio, se selezioneremo il PAL, lui metterà delle impostazioni per la realizzazione delle anteprime delle nostre sequenze in modo che escano dei file in PAL. In questo caso possiamo mettere anche personale, quindi un qualsiasi valore, non ha interesse. La base è temporale, quindi il fotogramma al secondo che dovrà avere la nostra timeline, la nostra sequenza. Naturalmente abbiamo selezionato una sequenza 25 fotogramma al secondo ed è quello che andremo ad utilizzare. Dimensione del fotogramma, abbiamo il fotogramma in questo caso totalmente in full HD, ma possiamo tranquillamente andare a cambiare, a personalizzare il fotogramma come vogliamo. Possiamo fare quindi una timeline, una sequenza totalmente rotata di 90 gradi, quindi avendo una dimensione fotogramma di 1080 in altezza per 1920. La proporzione dei pixel, naturalmente, se lavoriamo in alta definizione, la proporzione dei pixel sarà 1. La proporzione dei pixel è importante per quando si lavora con i nastri, quindi con il DV, con il PAL, con l'HDV. In quel caso, o se eventualmente lavorerete in anamorfico, ciò significa che quando avrete un fotogramma quadrato andrà ridimensionato rispetto alla proporzione dei pixel, ma questo naturalmente dipende dalla modalità con cui vengono effettuate le riprese. Quello che concerne la proporzione dei pixel, tutte le macchine di oggi registrano con un rapporto di 1. I campi, qua parliamo della scansione, quindi se è progressiva oppure è interlacciata. Naturalmente, nel mio caso, la mia scansione sarà progressiva. Possiamo tranquillamente impostare, nel caso sia necessario, una scansione interlacciata a campo superiore oppure ad inferiore. Andiamo al formato di visualizzazione. Naturalmente, quello che noi visualizzeremo è un timecode a 25 fotogrammi al secondo. È possibile cambiare queste cose nelle impostazioni. Andando avanti, abbiamo le preferenze per quanto riguarda il comparto audio. Possiamo scegliere il campionamento della frequenza, che di norma è 48.000 Hz. E il formato in cui vogliamo visualizzarla, come già detto in precedenza, possiamo decidere anche quando creiamo un progetto, se visualizzare in campioni d'audio oppure in millisecondi. Ed ecco arrivati alla parte in cui vi dicevo che la modalità di montaggio incide parecchio. In questo caso parliamo delle anteprime video. Ossia, quando in timeline avremo dei contenuti audio o video che siano, che hanno bisogno di, per essere riprodotti in tempo reale, hanno bisogno di essere renderizzati, il render che noi andremo a realizzare avrà queste esatte caratteristiche qui. E sarà poi disponibile come file di anteprima all'interno del nostro progetto. E quindi noi possiamo andare a decidere i formati che noi vogliamo utilizzare. Di norma si utilizza l'MPEG perché è il codec più veloce da utilizzare e il più fruibile in queste circostanze. Naturalmente io vi consiglio di lasciare sempre tutte le impostazioni in automatico, quindi lasciando sempre, almeno che non avete esigenze in particolare, di lasciare tutto come è preimpostato. Infine andiamo nella flag delle tracce. Questo pannello serve a decidere di quante tracce possiamo disporre per cominciare il nostro montaggio. Anche se, come abbiamo ben visto, possiamo aggiungerne quante ne vogliamo in qualsiasi momento. Di base possiamo scegliere con un semplice valore il numero delle tracce video, mentre per le tracce audio è un pochino diverso perché noi possiamo stabilire, si in partenza, e questo è fondamentale se vogliamo realizzare un audio in 5.1, dire sin da subito che quello che noi stiamo facendo saranno tracce in 5.1 e quindi dovremo andare poi a costruire il nostro ambiente di lavoro. Ad esempio ho selezionato nella master 5.1, quindi tutte queste tracce qua dovranno essere selezionate allo stesso modo in 5.1. E così facendo noi potremo salvare il nostro predefinito ed utilizzare il campionamento per creare un master con le tracce in 5.1. In base naturalmente, come avete visto, sono tre standard. Naturalmente sia nel pannello impostazioni che nel pannello tracce avremo in basso la funzione salva predefinito, così da poter salvare il nostro predefinito in una cartella apposita da poter richiamare all'occorrenza. Una volta creato un progetto ed una volta creata una sequenza, il prossimo step da affrontare è quello di importare dei contenuti, dei contributi all'interno del nostro progetto. Ne abbiamo tantissime modalità per poter importare contenuti e contributi, vediamo subito le prime. Possiamo andare in file importa all'interno del nostro progetto e potremo scegliere i contributi da voler importare selezionandoli e cliccando su importa all'interno del nostro progetto. Lui elaborerà i file, una volta elaborati saranno presenti all'interno del nostro pannello di progetto e potremo cominciare a guardarli. Posso abilitare l'anteprima ad icone e cominciare a guardare il mio materiale. Un'altra possibilità è quella di importare trascinandolo direttamente da una cartella. Quindi se io ho la mia cartella contenente i miei media posso addirittura trascinare tutta la cartella e lui mi creerà un raccoglitore contenente all'interno le clip che vi sono presenti. Ultima possibilità è quella di poter utilizzare l'area vuota all'interno del pannello di progetto. Cliccando con il tasto destro possiamo attivare una serie di funzioni e anche quella per importare il nostro materiale. Allo stesso modo ci si aprirà una finestra dove poter scegliere il materiale da voler importare e quando apriamo anche le finestre possiamo importare addirittura tutta l'intera cartella così come se la trascinassimo. Ed avremo il nostro materiale a disposizione per cominciare a montare. Un'ultima modalità per poter importare dei contributi è quella di acquisirli. Ormai oggi è una pratica molto più rara acquisire contenuti piuttosto che importarli. Per questo non faccio una attenzione separata semplicemente perché vi mostro qual è il pannello per poter acquisire materiale da cassetta, da telecamere direttamente via cavo. Questa funzione è la funzione cattura che è possibile attivarla tramite il menu file e andare alla voce acquisisci. C'è anche il tasto rapido della tastiera che è il tasto F5 uguale sia per Mac che per PC. Quindi possiamo cliccare su questo pannello e ci si aprirà questa finestra che è quella del controllo dell'acquisizione. Naturalmente in questo momento non ho collegato nessun sistema di play al mio computer e quindi vi mostro semplicemente quello che è il pannello. Una volta collegato un dispositivo al mio computer comparirà in automatico il nome del dispositivo. È una pratica completamente automatica, non dobbiamo installare driver né nulla perché Primer incorpora all'interno quelli che sono i driver per l'acquisizione. Possiamo decidere, qui sotto qui abbiamo i controlli VCR per poter mettere in play, registrare e quindi cominciare ad acquisire il materiale. Possiamo decidere il nome sia della clip che verrà generata e sia il nome della cassetta. Questo è un parametro che verrà aggiunto ai metadata. Naturalmente il nome del file, come dicevo in precedenza, è quello dato a nome della clip. Possiamo scegliere in quale cartella del nostro progetto vogliamo acquisire il materiale. Possiamo decidere di acquisire materiale solo video in una determinata cartella e solo audio in un'altra determinata cartella. Altrimenti acquisirli contemporaneamente audio e video verrà generato un solo file contenente il materiale. Possiamo scegliere nelle impostazioni il formato di registrazione. Io quando ho creato il progetto ho selezionato la voce di V, ma è possibile cambiarla cliccando su modifica. Ci si aprirà questa semplicissima schermata dove possiamo selezionare la modalità di acquisizione del nostro materiale. Ancora una volta possiamo selezionare la posizione in cui noi andremo ad acquisire il nostro materiale. Sia per l'audio che per il video posizioni specifiche che possiamo richiamare poi da questa cartella qui. Una volta selezionata la cartella ci si mostrerà il contenuto qui sotto qui. Possiamo ancora selezionare la tipologia di controllo. Possiamo modificare le impostazioni del controllo del nostro dispositivo cliccando sulla voce opzioni. Naturalmente questi controlli verranno aggiornati in automatico nel momento in cui collegheremo un hardware al nostro computer. E non ci sarà necessità di andarli a modificare manualmente. Una volta pronto il nostro dispositivo di acquisizione basterà cliccare sul pulsantino di registra per cominciare la registrazione. Naturalmente questa fase di cattura è in tempo uno a uno nel senso che l'hardware di messa in play comincerà a riprodurre e noi registreremo il segnale in entrata digitale sul nostro computer. Quindi se il materiale durerà 40 minuti il nostro tempo di attesa per l'acquisizione sarà di 40 minuti. Fatto ciò ci basterà cliccare sul pulsante interrompi e ci verrà salvato il file che ha generato e verrà automaticamente importato all'interno del nostro pannello di progetto. Oltre ad importare contenuti sottoformati file video, quindi file contenenti audio e video, possiamo importare contributi basati su sequenze di immagini. Ci sono casi in cui quello che noi avremo a disposizione sono sequenze di file, in questo caso sono jpeg ma possono essere file dpx o ancora file di altro genere, ci verranno date da importare sotto forma di fotogrammi. Ad esempio se noi lavoriamo con il 3D, esportiamo una serie di immagini sotto forma di video da un software di grafica 3D, se non impostiamo una voce che ci generi un file video, ci genererà una sequenza di fotogrammi. Ma come è possibile importarla? La prima modalità per importarla, naturalmente, partiamo sempre da file import. Andiamo nella nostra cartellina contenenti i nostri contributi, apriamo la cartella contenente la sequenza di immagini e dobbiamo selezionare necessariamente il primo fotogramma dell'elenco. Se noi facciamo import, quello che ci verrà importato in automatico è soltanto un fotogramma. Ma se torniamo indietro e facciamo file, importa, selezioniamo il primo fotogramma e selezioniamo la spunta sequenza di immagini, Premier andrà a leggere tutti i fotogrammi in ordine alfanumerico e ne importerà una sequenza di immagini. Quindi cliccando su importa, lui importerà a questo punto una sequenza completa di immagini che noi possiamo tranquillamente trascinare sul nostro progetto e poter utilizzare. Un'opzione in particolare da dover fare attenzione quando si importano sequenze di immagini è quella del framerate. Di base, se il nostro progetto è a 25 fotogrammi al secondo, Premier importerà sequenze di immagini a 25 fotogrammi al secondo. Ma potrebbe essere utile dover rielaborare quello che è il framerate. Per poterlo cambiare agevolmente basta cliccare col tasto destro sul nostro contributo, scegliere la voce modifica, interpreta metraggio. Così facendo noi andremo ad interpretare la sequenza di immagini, diremo a Premier come interpretare e leggere questa sequenza di immagini. Di base, naturalmente, come sono le impostazioni del nostro progetto, è quella di utilizzare la frequenza di fotogrammi a 25. Ma tranquillamente noi possiamo... Possiamo scegliere una frequenza che a noi ci aggrada, ad esempio se vogliamo leggere la sequenza a 24 fotogrammi al secondo, la durata verrà rearrangiata perché ogni secondo leggeremo un fotogramma in meno, vi faccio della differenza. A 25 fotogrammi al secondo la durata è di 45 secondi e 15 secondi. Nel caso leggerò a 24, la mia durata sarà di 47 e 12. Possiamo addirittura continuare e leggere ad esempio a 30 fotogrammi al secondo, la mia durata in questo caso scenderà vertiginosamente a 38 secondi. Posso fare tranquillamente ok, cliccarci due volte sopra, la sequenza è messa in play in questo caso a 30 fotogrammi al secondo. Naturalmente, dato che la mia sequenza è stata girata a 25 fotogrammi al secondo, interpreterò in questo preciso formato. Possiamo andare a... in questo caso non possiamo andare a modificare altro che il timecode impostato all'inizio della nostra clip perché questa clip, essendo generata da sequenza di immagini, non ha metadati da poter leggere. Quindi noi possiamo decidere, possiamo dire a Premiere come deve interpretarla di base. Quindi se il timecode della mia clip doveva essere, ad esempio, doveva partire da 22 secondi, Premiere interpreterà questa clip a 25 fotogrammi al secondo, come io ho detto, con un timecode di partenza da 22 secondi. Altre impostazioni che possiamo andare a decidere sono la proporzione dei pixel, che in questo caso, essendo file con proporzione 1 ad 1, lasciamo quella di base che viene definita, viene selezionata in automatico la proporzione di pixel quadrati 1 ad 1 oppure possiamo conformare con le nostre altre clip se per caso la nostra sequenza di immagini è stata realizzata e generata con una proporzione diversa, quindi ad esempio quella del pallo widescreen che è a 1.45 oppure addirittura in anamorfico. Nel nostro caso parliamo di una sequenza di immagini generata con un rapporto di pixel quadrati 1 ad 1. Possiamo scegliere l'ordine dei campi nella scansione interlacciata, ma essendo progressiva lasciamo così com'è. Altrimenti possiamo andare a selezionare la scansione dei nostri campi all'interno di questa tendina. Quindi lascerò quella della scansione progressiva, dirò ok e adesso avrò il mio footage derivato da una sequenza di immagini a play nel modo corretto. Premiere ci permette di utilizzare all'interno di una sequenza contenuti multimediali catturati con differenti sistemi di ripresa e con formati diversi. In questo caso io ho una sequenza generata in full HD, quindi 1920x1080. All'interno di questa sequenza io posso andare ad inserire contributi e materiali realizzati anche con altri formati, quindi ad esempio formati in ultra HD, formati in alta definizione o ancora formati ancora più particolari, come ad esempio questo, che è un formato in 2K, io posso tranquillamente inserirlo all'interno della mia timeline. Nel momento in cui andrò ad inserire il primo contributo all'interno della mia timeline, che non corrisponde a quelli che sono i parametri da me impostati all'inizio, Premiere mi chiederà se mantenere le impostazioni esistenti della mia timeline, oppure aggiornarle con quelle del file che stiamo andando a caricare. Io chiederò in questo caso, dato che voglio montare la mia timeline in full HD a 25 fotogrammi al secondo, dirò a Premiere di mantenere le impostazioni esistenti e andrò a conformare, quindi a sistemare, gli altri contenuti all'interno del mio montaggio. Quindi fatto ciò, questo file che ho inserito è più grande rispetto al fotogramma in alta definizione, infatti questo fotogramma che ho appena importato è un 2048 di orizzontale, ciò significa che è un formato 2K che è leggermente più grande, ha dei bordi leggermente più grandi. Ve lo mostro selezionando questa opzione e vi farà vedere il fotogramma quanto è grande. Come vedete il fotogramma è anche più corto e anche più basso rispetto a quello che è il mio progetto di base. Vi mostro ancora altro, vi faccio vedere, adesso importerò una clip sulla mia timeline. Questa clip in particolare non è in HD ma è bensì in 4K, in Ultra HD. E quindi noi possiamo andare a conformare questa clip, quindi ad esempio posso anche importarne altre registrate in Ultra HD, questa esempio è un'altra clip registrata in Ultra HD, possiamo andarla a conformare e renderla della dimensione del nostro fotogramma. Come? In timeline basta cliccare col tasto destro sulla nostra clip e scegliere l'opzione Ridimensiona a dimensione fotogramma. Cliccando col tasto destro vediamo che la nostra clip si ridimensiona secondo la larghezza del fotogramma alla nostra immagine di base. Possiamo fare lo stesso anche con quest'altra clip, Ridimensione a immagine a fotogramma. Come vedete abbiamo sulla nostra timeline formati diversi. Questo ad esempio è una clip girata in 4K DCI e questa è una clip girata in 4K UHD, in Ultra HD. Naturalmente l'Ultra HD è un'estensione dell'alta definizione, mentre il 4K è un'estensione del 2K. La differenza sostanziale tra i formati è che esistono formati per il cinema e formati per la televisione, formati complementari. Ad esempio per il cinema esiste il formato in 2K che è 2048 di larghezza per 1152 di altezza. Mentre la versione televisiva di questo formato è il formato in Full HD che è 1920x1080. Stesso concetto si estende ai nuovi formati in 4K. Abbiamo il 4K DCI che è 4096 di larghezza per 2160 in altezza, mentre abbiamo poi il formato complementare televisivo che è l'Ultra HD che è 3840x2160. E quindi quando importeremo dei contributi in 4K ad esempio avremo questo leggero sfasamento, questo leggero bordino, le famose letterbox all'interno della nostra immagine. Ma quello che ho fatto è stato conformare il contributo all'interno della mia timeline. Ma io posso andare a deselezionare questa opzione e andare a scalare manualmente il mio materiale come utilizzando il pannello di controllo degli effetti. Tutte le opzioni le vedremo con calma in una lezione successiva, però ora vi mostro soltanto la possibilità di poter scalare con l'opzione scala il mio contributo fino a portarlo al formato del mio fotogramma. Senza farlo fare in automatico a Premiere perché utilizzerà il formato orizzontale, in questo caso io invece ho scalato la mia clip manualmente tenendone fuori una porzione a destra e a sinistra della clip, però ho scalato senza ottenere l'effetto delle letterbox. Così facendo ho conformato il mio materiale e non si noterà in fase di montaggio. Non si noterà e non abbiamo distrutto nulla semplicemente perché abbiamo effettuato un downscaling, quindi abbiamo scalato e rimpicciolito un'immagine molto più grande in un fotogramma in alta definizione. Premiere ci permette di editare, di montare con tantissimi formati differenti, quindi potremo avere anche formati molto più piccoli dell'alta definizione, ad esempio con tributi presi da vecchie cassette oppure scaricati dal web. Potremmo scalarli, in questo caso invece al contrario, faremo un upscaling, quindi li ingrandiremo fino al fotogramma con la dovuta perdita di qualità in base al contributo iniziale, ma Premiere ci permetterà sempre di montare con tantissimi formati diversi in timeline. E questa è una delle sue più grandi peculiarità perché con tutti gli altri software di fascia alta abbiamo sempre bisogno prima di fare queste operazioni all'esterno della fase di montaggio, ossia prendere la clip in Ultra HD, convertirla in HD e poi poter montare. Premiere dà la possibilità da sempre di poter lavorare con tanti formati differenti su una sola sequenza con determinate impostazioni, quelle del nostro progetto. Una delle cose che subito saltano all'occhio quando montiamo in Premiere la nostra timeline sono queste linee di colore che vengono generate quando noi mettiamo una clip all'interno della nostra timeline. Queste linee colorate, che ne sono di tre tipi, giallo, rosso e poi vedremo quella di colore verde, servono ad indicarci quale clip noi possiamo mettere in play in tempo reale, quale ha bisogno di essere renderizzata e di quale noi stiamo guardando un'anteprima. Partiamo subito da quella gialla. Ogni contributo che noi inseriremo all'interno della nostra timeline sarà di base prettamente di colore giallo. Colore giallo cosa significa? Che questa clip non ha bisogno di essere renderizzata per andare in tempo reale. Quindi per guardare questa clip in tempo reale sul nostro monitor non abbiamo bisogno di creare, di fargli generare un'anteprima. Però al tempo stesso potrebbe causare dei drop frame, quindi dobbiamo fare attenzione. Ma di norma non ha bisogno di avere un'anteprima. Quando invece noi generiamo, applichiamo ad una clip, un effetto della nostra libreria abbastanza complesso, e questo effetto Premier non pensa di poterlo riprodurre in tempo reale, anche se sia una macchina abbastanza performante, come in questo caso avete visto, ci sono stati dei leggeri drop frame all'interno dell'immagine, allora Premier ci indica con una linea rossa il contenuto da analizzare, da renderizzare, per crearne un'anteprima per permetterci di guardarlo in tempo reale. Come si crea un'anteprima delle nostre clip in timeline? Basta premere invio sulla nostra tastiera e comparirà questo pannellino che renderizzerà, possiamo anche aprire i dettagli, che calcolerà le anteprime dei nostri contributi sulla nostra timeline, e una volta fatto genererà un file nella nostra cache, nella cartella cache che noi abbiamo indicato, un file con le impostazioni indicate in partenza, che sarà un file di anteprime e sarà sostituito temporaneamente a quello originale della nostra clip. Naturalmente di questo procedimento noi non ci accorgiamo di nulla, ma nel momento in cui lui fa quest'operazione, vedremo che la linea rossa è diventata verde. Avete fatto caso che la linea gialla invece è rimasta tale, e infatti Premier, quando un contributo è considerato d'allerta, quindi di colore giallo, e non ha necessità di essere renderizzato per essere riprodotto in tempo reale, Premier questo non lo calcolerà. E infatti ha calcolato soltanto la clip con l'effetto applicato. Se noi clicchiamo play adesso, sulla nostra tastiera, vediamo che la clip adesso è completamente fluida, non ha drop frame, e possiamo vedere l'anteprima quindi in tempo reale sul nostro montato. Ma nel momento in cui noi andremo a cambiare un qualsiasi parametro all'interno della nostra clip, questa ritornerà necessariamente rossa, perché l'anteprima non è più disponibile, deve essere ricalcolata, cosa che possiamo agevolmente fare cliccando con invio da tastiera. Premier impiegherà il suo tempo per ricalcolare l'anteprima, e così avremo nuovamente un file con un'anteprima disponibile in real time per vederla sul nostro monitor. Questo naturalmente, all'inizio vi ho mostrato, che è possibile abbassare la qualità della messa e riproduzione di un contenuto, ma questa non vale quando si applicano dei filtri o degli effetti pesanti alle nostre clip. Questa modalità di visualizzazione, dove si abbassa la risoluzione del nostro contenuto, va bene quando abbiamo delle clip che sono considerate gialle da Premiere, quindi con il livello di attenzione. Se noi abbassiamo la qualità di riproduzione, queste andranno molto più fluide, anche se verranno viste in bassa qualità. Non vale questo concetto per quanto riguarda i contributi con degli effetti pesanti che devono essere per forza di cose calcolati da Premiere per mostrarceli in tempo reale. L'ultimo pannello a cui dare uno sguardo è quello del browser multimediale. All'interno della nostra interfaccia noi possiamo operare tutte le operazioni che abbiamo fatto per importare i contenuti multimediali all'interno del nostro progetto e possiamo svolgere anche da questo browser multimediale. Come possiamo navigare tranquillamente all'interno degli harddisk del nostro computer e visionare tutto quello che il materiale contenuto è presente all'interno, così da poterlo già selezionare in partenza prima di importarlo all'interno del nostro progetto. Vi faccio un esempio. Navigo all'interno della cartella contenente i miei media. Io qua posso già cominciare a visionarli e scegliere di importarne uno piuttosto che un altro. Così facendo importerò i miei contenuti avendoli già visti in precedenza. In questa finestra, come detto, possiamo navigare, visionare i contenuti sia sotto forma di elenco che sotto forma di anteprime, possiamo zoomare all'interno della nostra finestra, possiamo eseguire delle ricerche e applicare dei filtri oppure scegliere come visionare i file e quali tipologie di file vogliamo scegliere da visionare. Quindi abbiamo all'interno una serie di posizioni preferite, quelle le ultime visionate, possiamo continuare a navigare, selezionare il nostro materiale ed importarlo all'interno del nostro progetto, rimanendo all'interno del software, quindi senza dover andare a cercare nelle cartelle, senza dover utilizzare le funzioni di importazione classiche oppure di trascinare i nostri contenuti all'interno del pannello progetto. Basterà utilizzare questo browser molto molto comodo. La maggior parte del tempo che passerete in Premiere è quella dedita al montaggio e quindi alle operazioni più frequenti, più comuni per il taglio delle clip in timeline. E sì, perché tutta la fase di montaggio, con la fase più creativa e quindi quella meno tecnica, è tutta quanta passata sulla timeline, quindi a mettere insieme una clip piuttosto che un'altra, metterne prima una con un determinato tempo, metterle a tempo di musica. Quindi insomma le operazioni creative, la fase creativa tocca certamente a voi. Mentre io quello che vi insegnerò sono tutte le operazioni che si possono eseguire in timeline e che dovrete eseguire, sono tutte quelle operazioni che dovete imparare per poter gestire al meglio le vostre clip in timeline per eseguire i vostri montaggi. Allora, le operazioni più comuni che si possono fare in una timeline sono quelle del trim e del taglio. Parliamo del trim. Il trim non è altro che il trascinare e non parliamo del trascinare la clip nel tempo, ma trimmare significa allungare una clip piuttosto che accorciarla. Naturalmente quando inserirete una clip in timeline la clip avrà agli angoli dei piccoli triangolini di colore bianco e questi triangolini stanno ad indicare l'inizio e la fine della vostra clip. D'accordo? Naturalmente non sempre prenderete dall'inizio alla fine della vostra clip. Allora molte volte cosa farete? Andrete a trimmare. Quindi potrete selezionare uno dei due lati quindi un inizio alla fine e cominciare a trascinare la clip. Questa operazione viene eseguita con lo strumento di selezione quindi non c'è bisogno di altri strumenti. Questo è il trim quindi andiamo a trimmare la composizione e la andiamo ad accorciare e a scegliere una selezione che a noi interessa. Da notare cosa accade nel nostro pannello del programma del nostro monitor programma. Quello che accade è che praticamente lui ci dà il time code della clip mentre la stiamo tagliando d'accordo? Quindi ci dice a quale punto lo andremo a tagliare e la clip che c'era in precedenza quello che Premiere vedrà in precedenza. Sia ad esempio io ho questa clip qui nel momento in cui io comincio a trimmare vedo che sulla sinistra non ho niente infatti se io rilascerei il cursore in questa posizione io non avrei nulla prima di questa clip ma avrei il nero. Se invece io trimmo la composizione Premiere ci mostra in questo monitor quello che è il fotogramma precedente che stavamo vedendo. E sì perché Premiere giustamente immagina che legato a questa clip noi dovremmo realizzare un taglio per quella successiva. Quindi se ti dice guarda l'ultimo fotogramma disponibile è questo campo qui forse tu vuoi partire da un campo più stretto cioè vuoi partire in un punto della clip che è più adatto al taglio. E quindi Premiere ti mostra l'ultimo fotogramma della clip precedente con il relativo timecode e ti mostra il fotogramma che stai selezionando con il mouse e da cui al rilascio partirà la clip con il relativo timecode. Quindi una volta lasciato non abbiamo l'effetto snap possiamo trascinarla ed agganciarla. E questa è la prima operazione che viene eseguita forse una delle operazioni che eseguiremo di più insieme alla prossima che andremo fra poco a vedere quella del trim. Un'altra operazione che faremo tantissime volte in fase di montaggio è quella del taglio. Quella del taglio che si può effettuare grazie alla lametta lametta che è possibile richiamare con la scelta rapida della tastiera la lettera C ci si attiverà la lametta che ha l'effetto snap quindi l'effetto calamita sui punti sensibili quindi quali possano essere l'incrocio tra due clip l'incrocio con il cursore e questo effetto può essere disabilitato cliccando con questo pulsantino qui sulla timeline. Adesso in questo momento l'effetto calamita non è più attivo dato che è molto comodo lo attiviamo infatti noi sceglieremo un punto dove voler tagliare la nostra clip e questo strumento realmente cosa fa? Taglia la clip in due clip diverse. Selezioniamo adesso lo strumento il nostro cursore classico per selezionare la parte che abbiamo tagliato che quindi in teoria non ci serve possiamo andare ad eliminare in due modi cliccando col tasto destro facendo cancella oppure utilizzando il tasto cancella dalla nostra tastiera. Questa è un'operazione molto comune infatti quello che noi andremo a fare la maggior parte del tempo è trimmare la composizione piuttosto che tagliare una porzione e cancellarne un'altra. Naturalmente l'operazione di montaggio non si ferma a questo questi sono degli strumenti che servono per realizzare dei tagli alle nostre clip per poterle poi dopo spostare nel tempo nelle posizioni più corrette per raccontare alla nostra storia quello che stiamo facendo. Abbiamo visto adesso l'operazione del trim classica quindi selezionando con lo strumento cursore una clip possiamo spostarci nel tempo e visionare quindi tagliare al contempo una porzione della nostra immagine ma gli strumenti di trim non sono terminati infatti ce ne sono altri due da vedere in questa sede poi nelle lezioni successive vedremo altre tipologie di strumenti ma voglio mostrarvi altri due strumenti molto ma molto interessanti. Allora il primo che voglio mostrarvi ed è sempre legato al trimming delle clip è questo strumento qui che si chiama montaggio con scarto vi spiego meglio allora nel momento in cui noi andiamo a effettuare il trim su una clip questa clip rimarrà nella posizione precedente semplicemente avremo tolto una porzione della stessa se invece noi utilizziamo questo strumento di montaggio con scarto che è possibile richiamare con la B sulla tastiera effettueremo la medesima opzione d'accordo quindi potremo effettuare sempre un trim soltanto che al rilascio la clip viene spostata con il punto di attacco accanto alla clip successiva un altro strumento molto ma molto interessante è quello del montaggio senza scarto ciò significa fa un'operazione simile d'accordo parliamo sempre di trim quello che andremo a far realizzare è sempre un trim e questa operazione può essere fatta su un taglio tra due clip diverse o anche la stessa la stessa clip semplicemente deve avere dobbiamo effettuare questa operazione con questo strumento su un taglio cosa possiamo fare selezionando un taglio in particolare noi possiamo muoverci nello spazio e trimmare contemporaneamente la clip precedente e quella successiva naturalmente se andiamo verso la sinistra noi accorceremo la clip precedente ed allungheremo quella successiva al contrario andremo ad allungare quella precedente e a stringere quella successiva in pratica allunghiamo una clip piuttosto che un'altra ma lasciando l'inizio e la fine se delle relative clip a cui andiamo a modificare il tempo nella stessa posizione quindi lasceremo la stessa posizione di in e di out per queste due clip soltanto che muoveremo il taglio nel mezzo quindi l'out della prima e l'in della seconda quando parlo di in e di out parlo dell'inizio di una clip e della fine di un'altra nel stesso modo questo qua l'in e questo qui e l'out e quest'altro punto qui questi erano gli strumenti per il trim e per il taglio all'interno della nostra timeline che sono le operazioni che utilizzeremo di più in fase di montaggio nelle prossime lezioni vedremo altri strumenti tutti gli altri strumenti della nostra toolbar cosa ci consentono di fare e come ci permettono di lavorare agevolmente in premer un'altra modalità per poter montare in adobe premiere è quella dell'utilizzo dell'in point e dell'out point e dell'inserimento della sovrascrittura delle clip ma vediamo subito di cosa sto parlando vi ho parlato di in point ed out point se noi navighiamo all'interno dei nostri contenuti e ne clicchiamo due volte su uno questo si aprirà nel pannello del monitor sorgente noi possiamo trimmare all'interno della nostra clip per scegliere la parte della nostra clip da voler inserire nel nostro montaggio ad esempio diciamo che l'inizio della mia clip la parte che io voglio inserire all'interno del montato è questa zona qui per inserire per inserire l'in point possiamo cliccare tranquillamente su questo pulsantino qui questo aggiungerà il marcatore iniziale detto in inglese e possiamo scegliere la parte finale e quindi cliccando su quest'altro pulsante qua dove selezioneremo il marcatore di stacco oppure out possiamo selezionare anche il tasto rapido o da tastiera per abilitare questa funzione si sarà creato così quella che sarà la durata della nostra clip qualsiasi operazione faremo adesso nel trascinare la nostra clip sulla nostra timeline Premiere prenderà il contenuto della nostra clip da questo punto a quest'altro lo spazio tra l'in point e l'out point viene segnalato da Premiere con questo timecode qui sulla destra mentre quello sulla sinistra troviamo il timecode generico della clip questo invece è quello della durata del nostro punto in ed out infatti se lo vado a modificare l'out point cliccando qui questo timecode che non è effettivamente un timecode ma è la durata della nostra clip si aggiornerà con la durata effettiva di questo spazio sulla timeline cliccando con il mouse al centro dove ci sono queste tre lineette noi possiamo spostare lo spazio dell'in e l'out point facendo rimanere invariato quello che è il tempo quindi 3 secondi e 22 in questo caso noi possiamo continuare a modificare l'in point e l'out point fino a quando non troveremo quello che è la porzione di clip che più ci interessa da inserire all'interno del montaggio adesso per inserire all'interno del montaggio abbiamo due opzioni quello dell'inserimento e quello della sovrascrittura come funzionano? allora il primo pulsante è questo qui e l'out key di questa di questa funzione è la virgola sulla tastiera ed è uguale sia per mac che per pc la seconda opzione è quella per sovrascrivere e l'out key è il punto sempre sulla nostra tastiera queste operazioni vengono combinate con un'altra selezione in particolare prima di utilizzare una di queste due funzioni vi mostro questa combinazione che Premiere fa con la timeline come vedete all'interno della timeline abbiamo i nomi delle tracce ed abbiamo anche delle selezioni come potete vedere in questo caso sono selezionate le tracce audio 1 audio 2 audio 3 audio 4 e video 1 e video 2 questa selezione serve per tutte le operazioni quando vogliamo effettuare delle operazioni su una traccia piuttosto che un'altra mentre quella sulla sinistra attiviamo e disattiviamo le tracce master in questo caso per quella video possiamo attivarne sempre solo una alla volta ne possiamo attivare di più contemporaneamente perché perché normalmente quando prendiamo una clip questa può avere una sola traccia video e più tracce audio in questo caso ad esempio le clip che ho registrato quelle contenenti audio hanno ben 4 tracce mono separate quindi io potrò andare a selezionare fino a 4 tracce se selezionerò invece soltanto la prima verrà considerata la prima dell'elenco e le operazioni quindi per esempio in questo caso l'inserimento verrà fatto in tutte le tracce subito sotto la mia selezione quindi se ho 4 tracce verrà inserito nella prima nella seconda nella terza nella quarta se invece selezionavo la seconda l'operazione verrà eseguita sulla seconda la terza la quarta e ne verrà creata una quinta che cosa significa operare su e selezionare quelle che sono le sorgenti le tracce nel momento in cui io andrò a cliccare su questo pulsante preme e reinserirà nel punto preciso dove ho il mio cursore questa clip ciò significa che taglierà questa qui già presente in timeline in due parti e inserirà questa porzione di video selezionato all'interno spostando le altre due facciamo una prova come vedete la clip che ho selezionato è stata inserita esattamente nel punto dove avevo il mio cursore d'accordo questa è la funzione di inserimento mentre invece cosa fa quella di sovrascrittura mi posiziono in un altro punto della timeline e prendo la stessa identica clip ma in questo caso la vado a sovrascrivere cosa farà Premiere non taglierà e sposterà la restante parte che c'era precedentemente ad esempio questa parte qui adesso andrà persa perché noi abbiamo la abbiamo sovrascritta d'accordo mentre con l'inserimento noi possiamo spostare quello che viene dopo inserendo in quel punto preciso la clip da noi selezionata ma come vedete tutte queste operazioni che io sto facendo avvengono all'interno della prima traccia questo perché ho selezionato come traccia master dove abilitare le mie operazioni la numero 1 se io questo lo faccio abilitando la traccia numero 3 nel momento dell'inserimento guardate cosa cosa succederà l'inserimento avverrà soltanto che io incollerò la mia porzione la mia clip sulla traccia video numero 3 mentre per quella audio la lasceremo su quella numero 1 perché è selezionata quella numero 1 se invece io selezionassi la traccia audio numero 3 e faccio inserisci questo Premiere opererà la stessa operazione soltanto incollandomi i contenuti sulla terza traccia video e sulla terza traccia audio ma vediamo cosa capita quando facciamo una sovrascrittura invece di come detto già prima Premiere invece di spostare le clip semplicemente ne appoggerà una e la sovrascriverà le altre però in questa condizione in particolare quando selezioniamo tracce differenti da dove abbiamo già altro materiale Premiere non cancellerà quello che c'è sotto ma lo andrà soltanto a coprire questo tipo di operazione fa parte della consuetudine della routine del montaggio quindi inserire una clip e sovrascrivere le altre in questo caso non abbiamo sovrascritto quello che c'era nella traccia inferiore ma l'abbiamo soltanto coperto e all'occorrenza ad esempio se vogliamo modificare un taglio possiamo trimmare da timeline con il tool di selezione possiamo semplicemente trimmare ed andare a scoprire altre parti della traccia numero 1 in questo caso che vi è sotto così facendo possiamo rielaborare e lavorare sempre al montaggio con più tecniche differenti che siano quindi dall'utilizzare l'inserimento della sovrascrittura con gli in e gli out point dall'interno del nostro monitor sorgente fino ad utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per lavorare in timeline con il nostro mouse vediamo ora tutti gli altri strumenti che Premier ci mette a disposizione per poter lavorare sulla nostra timeline allora gli strumenti li possiamo trovare in questa barra in questa toolbox qui laterale alla timeline che è possibile come tutte le altre toolbox poterla personalizzare quindi spostarla di posizione in posizione e contiene una serie di tool molto utili da poter utilizzare mentre lavoriamo abbiamo già visto lo strumento di selezione la freccetta con cui ci permette di selezionare le clip all'interno della nostra timeline e effettuare operazioni come ad esempio spostare una clip lungo le tracce sia audio che video possiamo spostarle insieme possiamo selezionare più clip contemporaneamente ed applicare la medesima operazione a più clip insieme poi abbiamo questo strumento molto interessante è che lo strumento di selezione ha tracciato avanti e indietro che cosa significa che cosa è questo strumento immaginiamo di avere un montato concluso quindi abbiamo tantissimo materiale all'interno della nostra timeline ma vogliamo selezionare una completa porzione da un punto in avanti della nostra timeline quindi selezionando tutte le clip questo strumento e quello successivo ci vengono in aiuto come selezionando il primo quindi la selezione del tracciato in avanti vogliamo selezionare ad esempio da questa clip in poi tutto il resto del montato basta cliccare su questa clip e lui selezionerà automaticamente tutto quello che vi è dopo naturalmente adesso con solo tre clip in timeline è un'operazione semplice che può essere fatta anche con lo strumento di selezione se immaginate di avere una timeline enorme con tantissimo altro materiale sopra ad esempio aggiungo un po' di clip per mostrarvelo in questo caso ad esempio ho molti più clip selezionando questo strumento da questa clip in poi lui selezionerà tutto e funziona allo stesso identico modo lo strumento di selezione ha tracciato indietro quindi se noi selezioniamo da questo punto in poi lui selezionerà tutto quello che c'è dietro a questa clip una volta effettuata la selezione possiamo ritornare sul nostro strumento di selezione per decidere se volerlo spostare questi qua sono i primi tre sono strumenti per una selezione molto più rapida quando abbiamo una timeline con molto ma molto materiale all'interno vediamo al prossimo strumento che già l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti è il montaggio con scarto andiamo a riguardarlo subito se io ho una clip e voglio trimmare questa clip all'interno della mia composizione una volta trascinata la clip lui porterà con sé tutte quelle successive quindi senza creare alcuno scarto l'altro invece che già abbiamo visto è il montaggio senza scarto in pratica eseguirà un panning delle due clip questo strumento si abilita e si utilizza su un taglio all'interno della nostra timeline mentre una clip adecente al taglio viene accorciata l'altra viene allungata senza generare uno scarto lo scarto vi ricordo che è lo spazio che intercorre tra due clip questo ad esempio è un punto di scarto che noi possiamo eliminare cliccando col tasto destro e fare elimina salto la prima opzione come vi ho mostrato genera uno scarto che viene subito annullato mentre quest'altra fa la stessa medesima operazione ma senza generare scarto quindi spostando soltanto le clip il taglio delle clip facendole rimanere nella stessa loro posizione andiamo al prossimo strumento che è quello per dilatare la frequenza dilatare la frequenza significa velocizzare o rallentare una clip velocizzare o rallentare una clip è un'operazione che possiamo fare utilizzando un pannello che si che si può attivare cliccando col tasto destro sulla clip velocità durata ci si aprirà questo pannello che ci permette di effettuare delle operazioni quelle più comuni sono quelle lì di poter cambiare la percentuale di velocità della nostra clip se ad esempio io faccio 200% questa clip si velocizzerà del doppio e questo lo possiamo notare all'interno di quest'altro riquadro che è strettamente collegato a quello della percentuale che si aggiorna e aggiorna la durata della clip noi possiamo andare a modificare direttamente il valore della durata e si aggiornerà in automatico quello della velocità se scendiamo sotto il 100% la clip verrà rallentata possiamo ottenere o abilitare una serie di opzioni come ad esempio possiamo scegliere se dobbiamo creare un'interpolazione delle nostre immagini rallentate e l'opzione flusso ottico è stato aggiunto nell'ultima versione di Premiere Pro e aggiunge una notevole fluidità alla nostra clip rallentata possiamo decidere se invertire la velocità quindi farlo andare dalla fine all'inizio quindi invertire l'andatura della clip mantenere un tono audio costante oppure nel caso avessimo avessimo delle clip adecenti a quella che stiamo rallentando se aggiungere scarto oppure spostare quella che vi è dopo un'altra opzione che possiamo utilizzare stesso in timeline per poter velocizzare o rallentare la nostra clip è questo strumento che si attiva anche con l'hotkx sulla nostra tastiera e prendendo un lato di una nostra clip possiamo in questo caso velocizzare in questo caso dilatare il tempo e quindi rallentare la nostra clip la percentuale di rallentamento si aggiornerà e comparirà in un quadratino che è presente accanto al nome della nostra clip in timeline in questo caso è rallentata al 25,51% andando andando a far play vedremo che la nostra clip è stata rallentata questa operazione non è distruttiva infatti noi possiamo tornare indietro possiamo tranquillamente velocizzare la clip andando semplicemente a trimmarla e noi velocizzeremo l'intera clip quindi non stiamo modificando il contenuto della nostra clip che sarà sempre dallo stesso in point allo stesso out point cioè la clip originale dura un secondo e quindici fotogrammi stiamo cambiando la frequenza con cui viene messa in play in questo caso abbiamo velocizzato la nostra clip del 250% quindi due volte e mezza più veloce il prossimo strumento che troviamo all'interno della nostra toolbox è la lametta che già abbiamo visto a cosa serve serve a generare un taglio sulla nostra timeline e una opzione molto interessante che è possibile attivare con la nostra lametta è questa se noi vogliamo eseguire un singolo taglio su una singola clip ci basterà passare con la lametta sulla nostra clip che vogliamo tagliare ed effettuare il taglio cliccando col tasto sinistro del nostro mouse quindi questa operazione viene effettuata solo sulla clip che noi stiamo selezionando e sulla clip collegata dell'audio quindi se faccio ad esempio il taglio sull'audio questo verrà fatto anche sul video perché sono due clip collegate audio e video in questo caso sono collegati ma se io volessi effettuare un taglio lungo tutto l'asse mi basterà tenere premuto shift sulla tastiera in questo caso ogni volta che effettuerò un taglio lo effettuerò su tutte le tracce in questo caso qui qui ad esempio mi viene incomodo lo strumento di selezione tracciato avanti se io volessi cancellare tutto quello che c'è dopo qui mi basterebbe cliccare su questa clip e lui mi selezionerebbe tutte le altre andiamo a vedere adesso un altro strumento molto interessante che è lo strumento dello scivolamento all'interno della mia timeline ho una clip che è stata tagliata che ha un in e un out point d'accordo tutte le clip che vengono tagliate verranno sempre un in e un out point anche se ad esempio tagliamo con la nostra lametta noi staremo aggiornando l'in point della nostra clip che è possibile vederlo cliccando due volte sopra la nostra clip si aprirà all'interno del monitor sorgente dove vedremo il nostro in point e il nostro out point adesso come vi ho detto già nella lezione precedente possiamo andare a far scivolare l'in e l'out all'interno della nostra clip quindi selezionando nella stessa durata un punto piuttosto che un altro della nostra clip questa opzione è possibile eseguirla direttamente in timeline utilizzando lo strumento scivolamento praticamente basta cliccare sulla nostra clip e noi cosa faremo in pratica di spostare l'in e l'out point in un punto piuttosto che un altro potete vedere come si è aggiornato l'in e l'out point all'interno della nostra clip se eseguo la stessa operazione mi sposto in un punto che io ritengo più interessante e in alto a destra abbiamo le preview sia dell'in che dell'out point facendo in questo modo abbiamo aggiornato l'in e l'out point di questa clip senza muoverla della sua posizione all'interno della nostra timeline questo è importante perché se abbiamo un montato intero spostare una singola clip diventa più complesso e quindi con questi strumenti velocizziamo e ci facilitiamo l'eventuale modifica del contenuto di una clip veniamo all'ultimo strumento di montaggio all'interno della nostra toolbox che è lo strumento di slittamento come abbiamo già visto per lo strumento di montaggio senza scarto noi andiamo a spostare il taglio tra due clip quindi andando ad accorciarne una ed allungarne un'altra non modificando la frequenza di riproduzione quindi non andiamo a velocizzare o rallentare andiamo a modificare della prima l'out della seconda l'in possiamo fare la medesima cosa con l'intera clip quindi utilizzando quest'altro strumento che è lo strumento di slittamento se io seleziono in questo caso la clip centrale questa clip non verrà variata nella sua durata e neanche nel suo in e nel suo out ma quello che andremo a fare è modificare l'out della clip alla sinistra e l'in della clip sulla nostra destra quindi facendo in questo modo invece di modificare un taglio preciso modificheremo una clip tra due tagli differenti gli ultimi due strumenti disponibili all'interno della nostra toolbar sono la manina attivabile con l'hot key e a H che serve semplicemente a spostarci all'interno della nostra timeline in modo più agevole senza l'utilizzo degli strumenti di scorrimento che abbiamo ai lati ed abbiamo lo strumento di zoom con cui poter zoomare una determinata porzione della nostra timeline piuttosto che un'altra questo strumento di zoom può essere molto più comune utilizzarlo tramite tastiera utilizzando l'hot key meno e l'hot key più per rispettivamente fare un zoom in e fare un zoom out vediamo ora in questa lezione come gestire al meglio le nostre clip in timeline e come lavorare con tutte quelle che sono le opzioni sia del pannello timeline sia della gestione reale delle clip dopo aver spiegato tutti gli strumenti neanche nelle altre lezioni vi ho sempre detto che in questo caso abbiamo una clip collegata al video abbiamo una clip audio collegata a una clip video queste due clip sono collegate tra di loro perché sono state generate insieme all'interno di una telecamera ma queste due clip possono essere sciolte possiamo decidere sia di montare deselezionando questa questa opzione la nostra timeline che ci permette di scollegare le clip collegate però in questo caso vedete ci verrà dato una sorta di errore che più che un errore è un indicatore di quanto la clip collegata è spostata rispetto alla sua gemella quindi nel caso questo è il video è spostato di 6 secondi e 13 secondi rispetto a quella audio e infatti questo si può notare perché quella audio ha un più accanto al nome mentre quella video ha un meno questa è un'opzione un'altra opzione potrebbe essere quella di congelare una traccia utilizzando utilizzando il lucchetto il blocco e il blocco della traccia è spostare l'altra sua componente ma non è questa la soluzione più congeniale quella reale invece è quella di scendere sebbene l'esigenza due tracce una sola clip in due tracce distinte come basta cliccare col tasso destro e fare scollega facendo questa opzione come vediamo è scomparso quello che è l'indicatore che dice che questa è una traccia video e questa è una traccia audio diventeranno soltanto due tracce che sono dei contenuti una naturalmente sarà video perché è predisposta con delle immagini all'interno per posizionarsi nelle tracce dei video e un'altra invece per quelle audio e se infatti adesso cominceremo a spostare la nostra clip all'interno del tempo non comparirà più l'indicatore che ci dice quanto è spostata la clip gemella all'interno del tempo un'altra operazione che si effettua parecchie volte all'interno di una timeline è quella del copia e incolla copia e incolla che funziona naturalmente possiamo utilizzare il tasto destro e fare copia oppure spostarci nel tempo e fare incolla andiamo modifica incolla e abbiamo copiato ed incollato una determinata traccia possiamo fare più operazioni con il copia e incolla ad esempio in memoria ho ancora copiato la determinata traccia posso fare incolla con l'inserimento quindi inserendo la clip in questo determinato punto verrà effettuato un taglio un po' come se la inserissimo dal nostro pannello sorgente posso fare in questo modo e la clip sarà inserita all'interno in questo preciso punto se volessi incollare una clip non nella prima traccia ma in quelle successive beh questo è possibile fare selezionando le tracce che non ci interessano ad esempio io voglio incollare con l'inserimento la clip copiata in questo determinato punto però non voglio sovrascrivere quelle che sono le clip presenti sulla traccia numero 1 quindi basta selezionare la traccia video e quella audio fare modifica incolla con l'inserimento così facendo verrà generato il taglio le clip successive al taglio vengono spostate e viene inserita la clip copiata e questa è la gestione delle tracce quindi come ho detto nelle lezioni precedenti queste funzioni servono per delle operazioni mentre queste qua servono per la gestione delle operazioni in timeline così facendo posso continuare a copiare ad esempio questa clip video la copio tasto destro facciamo copia e la voglio inserire all'interno del mio montaggio in questo determinato punto e la voglio inserire sulla traccia numero 4 quindi selezionerò la traccia numero 4 selezionando la numero 1 faccio modifica incolla con inserimento così facendo sarà generato il taglio e la clip sarà inserita in quel determinato punto naturalmente noi possiamo come avrete già visto selezionare più di una timeline quando andremo ad incollare un oggetto a realizzare un'operazione di tale genere Premiere prenderà sempre la traccia più in basso quindi in questo caso la numero 2 infatti se andrò ad incollare nuovamente la mia clip verrà incollata sulla traccia numero 2 ma nel caso ne andassimo a copiare più di una sola traccia in questo caso ne abbiamo copiate due e selezioniamo e selezioniamo dalla seconda traccia in su Premiere incollerà le nostre clip a prescindere da dove si trovavano precedentemente che prima erano nella prima e nella seconda traccia Premiere incollerà dalla seconda traccia in su quelle che sono le clip copiate in questo caso ne abbiamo copiate due quindi andiamo a fare incolla e come vedete la prima naturalmente quella che comincia prima è stata copiata nella traccia numero 3 che è quella lì che era superiore invece quella che era in basso quindi sulla traccia numero 1 si è incollata nella traccia numero 2 così facendo io posso ancora andare a deselezionare le altre e incollarla soltanto sulla traccia numero 4 in questo caso Premiere genererà una quinta traccia video possiamo scorrere con il mouse e andare a vedere che è stata generata una quinta traccia video naturalmente le operazioni che possiamo realizzare all'interno della nostra timeline ce ne sono ancora altre molte le scopriremo nelle lezioni successive ma voglio mostrarvi ancora come è comodo lavorare all'interno della timeline quali sono le opzioni che rendono comodo il montaggio in timeline prima di tutto come abbiamo già visto nella lezione in cui guardavamo facevamo una panoramica della nostra interfaccia che è possibile deselezionare e disattivare una traccia piuttosto che un'altra in questo caso ho disattivato la 2 la 3 la 4 infatti non sono visibili posso attivare la 3 e quant'altro allo stesso modo posso fare la medesima operazione con le tracce audio soltanto che con le tracce audio ho due valori differenti la M e la S che ora sta per muto quindi in questo caso io ho mutato la traccia numero 1 e tutte le clip che ne fanno parte nel secondo caso invece è solo ossia la solo in questo caso io ho mutato tutte le restanti tracce ne potevano essere anche 500 le ho mutate e ascolterò soltanto questa medesima traccia qui naturalmente queste opzioni possono andare in combo quindi se selezionerò la solo anche a questa traccia ascolterò solo la prima e la seconda traccia cioè quelle selezionate mentre il resto di quelle che avremo creato non le ascolteremo così facendo posso selezionare e mutare una traccia piuttosto che un'altra per ad esempio andare ad ascoltare un parlato o un dettaglio in particolare che voglio andare a correggere e migliorare una funzione molto interessante di cui non vi ho parlato quando abbiamo parlato del pannello del progetto e quello dell'inserimento automatico all'interno della sequenza ho voluto dedicargli una lezione apposita perché è uno strumento molto utile non solo per le clip video ma specialmente quando bisogna creare dei montati con delle fotografie immagino ad esempio vogliate immagino ad esempio vogliate realizzare un video che racconti con delle foto quello che è stato un vostro evento importante invece di inserire tutte le foto in timeline manualmente è possibile inserirle in automatico ed ancora in automatico applicargli delle dissolvenze ho importato all'interno del progetto una cartella contenente 5 fotografie le vado a selezionare tutte e 5 e mi si attiverà il pulsantino aggiunta automatica alla sequenza una volta cliccato mi si aprirà un pannello dove posso scegliere di applicare posso scegliere delle opzioni andiamo a vederle insieme prima di tutto dovete capire che questa funzione aggiunge in automatico le clip selezionate che siano queste foto video o audio all'interno della nostra sequenza seguendo questi parametri che noi abbiamo dato la prima opzione che ci viene richiesta è l'ordine in cui vengano inserite le immagini nel mio caso ho scelto ordine elenco ma c'è la possibilità di selezionare l'opzione di ordine selezione cosa significa l'ordine selezione in questo caso l'ordine elenco questa è la prima questa è la seconda la terza la quarta e la quinta vediamo anche nella modalità elenco se vogliamo realizzare se vogliamo selezionare l'opzione ordine per selezione se noi selezioniamo la prima che vogliamo che sia questa con il tasto ctrl o command dalla nostra tastiera se siamo su mac o su pc possiamo selezionare alt ad esempio vogliamo che la seconda sia questa la terza questa la quarta e la quinta così facendo premere ricorderà l'ordine con cui abbiamo selezionato le nostre clip quindi facciamo ordine per selezione lui ci dice che questo verrà fatto all'interno del nostro progetto in questo caso il mio progetto si chiama montaggio base e verrà inserita nella timeline zero infatti io ho selezionato e ho aperto in questo momento la timeline nominata zero la sequenza nominata zero ci dice come vuole che come vuole che posizioniamo i nostri contenuti in modo sequenziale in modo sequenziale significa che verranno messe uno dietro un'altra o a marcatori senza numero marcatori senza numero cosa significa abbiamo visto che c'è la possibilità di creare all'interno della nostra sequenza dei marcatori ecco qui aggiungi un marcatore ne possiamo aggiungere ancora altri e quant'altro lui non farà altro che mettere una fotografia ogni marcatore selezionato facendo durare la clip il tempo necessario per coprire lo spazio da un marcatore all'altro dato che noi vogliamo voglio mostrarvi come possono essere messi in automatico tutte quante insieme scegliamo la selezione sequenziale il metodo con inserimento o sovrascrittura naturalmente questo dipende se abbiamo altro materiale nella nostra timeline quindi funziona come i due tasti che abbiamo visto nel monitor sorgente quindi se inseriamo le nostre clip in uno spazio quindi verrà spostato quello che c'è a destra del nostro cursore oppure con sovrascrittura e quindi andrà a cancellare quello che c'è andrà a sovrascrivere quello che c'è subito dopo il nostro cursore in timeline quanto vogliamo che durino le sovrapposizioni questa è l'opzione che serve a decidere quanto tempo deve durare la transizione possiamo scegliere in fotogrammi o in secondi e in questo caso ho messo due secondi che la sovrapposizione tra una clip e un'altra deve durare due secondi quindi adesso stiamo selezionando delle foto quindi la sovrapposizione non interessa nel caso selezionassimo delle clip video questo strumento andrà a prendere un secondo dalla fine di una clip e un secondo dall'inizio dell'altra clip quanto vogliamo che duri un'immagine fissa questa è l'opzione che serve ad indicarci quanto durerà ogni immagine fissa quindi parliamo di fotografia di frame di immagine non di clip video all'interno del nostro montato possiamo scegliere di utilizzare attacco e stacco quindi l'intervallo di in e out che possiamo andare a preselezionare sulla nostra clip oppure decidere quanti fotogrammi dovrà durare con un massimo di 99 fotogrammi ci viene chiesto se vogliamo applicare in automatico una transizione audio ed una video e possiamo decidere di ignorare oppure no una traccia ad esempio possiamo ignorare in questo caso abbiamo selezionato tutte tracce che contengono solo video quindi possiamo scegliere di ignorare solo il video ma nel caso avessimo dei clip con dell'audio e vogliamo ignorarlo basta selezionare questa spunta adesso cosa succederà nel momento che preverò ok queste clip verranno inserite automaticamente all'interno della timeline dal punto dove si trova il cursore ecco come detto ecco le nostre clip automaticamente inserite all'interno del nostro progetto non hanno animazione nel senso che non si muovono ma sono state inserite in automatico ed è stata applicata una transizione in automatico questo naturalmente se abbiamo 4 o 5 foto è un conto ma quando ne abbiamo 50, 60, 100, 200 è molto ma molto comodo come strumento per inserire e per realizzare velocemente dei video con delle fotografie passiamo ora a quelle che sono lezioni su pratiche di editing più avanzato quindi non parliamo più degli strumenti base ma quelli un pochino più avanzati per quando si lavora a progetti un po' più complessi nella mia sequenza ho diverse clip immaginiamo di avere un enorme montato di un'ora e abbiamo un'intera scena del nostro video che vogliamo tenere in una timeline separata perché vogliamo lavorare prettamente su quella timeline cosa possiamo fare noi? possiamo nidificare delle sequenze che cosa significa? diciamo che nel mio montato ho questa porzione di clip di sequenza che a me interessa tenere separatamente perché voglio lavorarci su una sequenza ad hoc lavorare solo su quella perché tanto la mia durata sarà sempre la stessa cosa posso fare? posso andare a sostituire a queste questo agglomerato di clip che in questo caso ne sono soltanto due ma immaginate di avere una scena di 5 minuti con 40-50 clip al suo interno cliccando con il tasto destro possiamo scegliere l'opzione nidifica cliccando su questa opzione ci verrà richiesta il nome di una nuova sequenza eh sì queste clip verranno spostate in una nuova sequenza e questa sequenza che noi andremo a creare verrà sostituita a queste due clip nella nostra timeline chiamiamola nidificata 1 e diamo ok così facendo il premier sostituirà quelle che sono le nostre clip nella timeline creando questa sequenza nidificata come vedete il premier lascia in automatico le tracce audio al loro posto questo perché all'interno della nostra timeline che in questo momento si è creata nel nostro panorama di progetto e possiamo andare ad aprire con un doppio clic le tracce audio sono presenti soltanto che il premier lascia quelle nella timeline precedente lascia le clip audio nella timeline precedente non solo come referenza ma anche perché molte volte quando si lavora con l'audio vogliamo intrecciare quelle che sono le tracce audio ad esempio se volevo realizzare una dissolvenza audio tra questi due clip posso farlo tranquillamente lasciando tutte le mie clip nidificate quindi questa mia porzione nidificata da un'altra parte con un audio di reference che è lo stesso quindi posso andare tranquillamente ad effettuare dei tagli di montaggio e fare attenzione naturalmente poi all'audio che mi si trova nell'altra timeline ma prendo tutto quello che ho selezionato e ne creo esattamente un'altra sequenza ma non nidifico le clip all'interno della mia sequenza attuale ma le sposto una copia all'interno di un'altra sequenza che mi verrà creata in automatico verrà nominata sequenza sub 1 all'interno del mio pannello progetto e qui come esattamente prima verranno copiate le stesse clip con lo stesso montato in una sequenza praticamente separata così facendo che io questa porzione in un'altra sequenza ad hoc ad esempio sulla prima faccio dei montaggi faccio dei tagli di montaggio di base per rendermi conto se una parte mi piace posso spostarla in una sequenza a parte e dire questa qua è la sequenza ok quindi io posso andare a rinominare la mia sequenza e dico scena 1 montata d'accordo quindi avrò la mia scena montata in una sequenza separata diciamo che ne facciamo ancora un'altra ecco qui su destro crea sequenza secondaria questa qua la chiameremo ad esempio scena 2 montata ok adesso diciamo che io ho le due tutte le scene del mio film del mio video montate separatamente e voglio unirle su una sola timeline quindi questa sequenza in particolare la chiamerò montato definitivo come posso fare per andare a posizionare tutti i miei elementi presenti tutte le mie scene montate presenti in altre sequenze in quella che voglio definire quella del montato definitivo la prima posizione sarebbe quella di poter copiare e di incollare all'interno della nuova sequenza d'accordo quindi andrei a copiare tutta la prima parte e la seconda parte e le vedo incollare nella mia sequenza così ho da ottenere il montato definitivo ma questa è una procedura un po' scomoda quello che noi possiamo fare che Premiere ci permette di fare è di trascinare una sequenza all'interno di un'altra ma non ce la trascinerà come sequenza nidificata bensì ci trascinerà tutto il suo contenuto quindi in questo caso io non sto trascinando due clip ma sto trascinando la mia sequenza della scena una montata e Premiere mi inserirà il suo contenuto in questa timeline così posso fare con la scena numero 2 così facendo di ottenuto il montato definitivo unendo la scena numero 1 e la scena numero 2 e posso andare a rifinire i tagli di montaggio a creare dissolvenze e quant'altro per ottenere il lavoro finito questo è come si lavora con sequenze nidificate e sequenze secondarie è un ottimo modo per poter lavorare perché è possibile avere il massimo controllo su ogni scena e poi alla fine del nostro lavoro andare ad unire tutto insieme per completare e realizzare la nostra sequenza di montaggio definitiva veniamo ora ad una delle funzioni molto interessanti che ormai tutti i software di montaggio portano con sé ed è quella del montaggio multicamera cosa significa montaggio multicamera? immaginiamo di aver ripreso un evento live contemporaneamente con tre telecamere io naturalmente ho simulato le tre telecamere posizionando delle clip in timeline d'accordo? diciamo che abbiamo realizzato questo video con tre telecamere che hanno registrato contemporaneamente allora cosa possiamo fare? comprimerci la funzione di montaggio in multicamera che ci permette di lavorare e di montare come se fossimo in una vera e propria regia allora la prima cosa da fare è quella di andare a sincronizzare le tre telecamere ed andarla a posizionare ognuna su una traccia video ed audio allora diciamo che la prima telecamera che la posizioniamo sulla traccia video numero 1 e audio numero 1 la seconda telecamera andiamo a metterla sulla traccia video numero 2 ed audio numero 2 stessa cosa con la terza andiamo però sulla terza traccia video e terza traccia audio naturalmente adesso le tre telecamere andrebbero sincronizzate in questo caso sono soltanto clip ma nel caso in cui fossero tre telecamere reali che hanno registrato contemporaneamente di santa pazienza va trovato un punto esatto in cui le tre telecamere registrano contemporaneamente e posizionarle e posizionare le tre tracce in modo che siano sincronizzate normalmente come si fa quando si fanno riprese in multicamera si cerca di dare un chuck si cerca di dare un elemento audio visivo uguale per tutte e tre le camere quindi può essere un battito di mani fatto davanti a tutte e tre le camere in contemporanea e noi andremo a sincronizzare quindi a posizionarci le nostre clip nella sequenza in modo che il clap delle mani o il clap del chuck sia uguale in tutte e tre da quel punto in poi saranno uguali per tutta la loro durata diciamo che questa operazione l'abbiamo eseguita e vogliamo passare direttamente al montaggio in multicamera perché utilizzare il montaggio in multicamera che fra poco vedremo perché se io volessi montare con questo materiale in questa sequenza quindi con tre tracce video dovrei andare a disattivare una traccia scegliere una clip tagliare cancellare quello che non mi interessa riselezionare la traccia scegliere di tagliare in questo punto spostare questa da quest'altro lato così da far comparire quella sotto quindi dovrei fare un po' di operazioni tante in verità operazioni di montaggio e sono molto scomode da qui nasce il montaggio in multicamera ve lo mostro subito si attiva in questo modo selezioniamo tutte le nostre tracce che abbiamo nella nostra sequenza clicchiamo con il tasto destro ed andiamo a nidificarle questa opzione ve l'ho spiegata in una lezione apposita a cosa serve nidificare le clip e un'altra funzione che abbiamo è quella di poter utilizzare la funzione multicamera abbiamo nidificato le nostre tracce come detto anche nella lezione precedente Premiere ci lascia le tracce audio in riferimento che noi possiamo tranquillamente andare a cancellare abbiamo cancellato le tracce audio e adesso bene essendo una sequenza che contiene audio e video noi possiamo utilizzare nella nostra timeline sia l'audio che il video come facciamo a riottenerla possiamo andare a reimportare la nostra sequenza nidificata nella nostra timeline utilizzando audio e video se proviamo a trascinare la nostra sequenza accadrà questo come l'ho visto nella lezione sulle clip nidificate o secondari ossia che lui ci importa tutte le nostre clip contemporaneamente tutte le clip contenute nella timeline multicam che abbiamo creato le importano nella nostra timeline come si può ovviare a questo basta selezionare questo pulsante sul nostro pannello di timeline ossia inserire e sovrascrivere le sequenze come nidificazioni o singole clip facendo in questo modo quando noi andremo a trascinare la nostra sequenza questa ci verrà trascinata come se fosse una clip intera ma al suo interno noi abbiamo tutte le clip suddivise su varie tracce video ed audio torniamo alla nostra sequenza di base e adesso possiamo attivare il montaggio in multicam come si abilita questa modalità cliccando con il tasto destro del mouse sulla nostra clip e selezionando multicamera abilita fatto ciò è cambiato poco o per meglio dire è cambiato il nome della clip ebbene sì perché nel montaggio multicamera Premiere riconoscerà la prima traccia video come la telecamera numero 1 la seconda traccia video come la telecamera numero 2 e la terza traccia video come telecamera numero 3 in questo caso Premiere prenderà sempre il video tratto dalla traccia numero 1 quindi se facciamo caso al nome A008C135 è quello presente all'inizio della clip in questa posizione qui il 335 quindi sta prendendo informazioni dalla prima traccia video della sequenza in multicam ma noi come facciamo a bottare in multicam quindi a vedere più telecamere contemporaneamente e poter scegliere quello che vogliamo utilizzare bene è possibile abilitare potremmo andare nelle opzioni nel nostro pannello monitor programma e selezionare la modalità in multicam che si trova in questa posizione qui vedete multi videocamera cliccando su questa opzione cambierà lo stile del monitor andiamo ad allargare il pannello in questione e vediamo di cosa si tratta abbiamo esattamente nella posizione di sinistra le tre tracce video viste in contemporanea quindi la traccia numero 1 la traccia numero 2 e la traccia numero 3 quella che abbiamo il monitor che abbiamo sulla destra invece è quello che noi realmente stiamo vedendo nel montato che cosa significa? un po' come una regia in live una regia in live ha contemporaneamente più segnali video in questo caso ne abbiamo tre e sceglie cosa mandare in onda in questo caso è selezionato con un riquadro giallo la traccia numero 1 e quindi noi stiamo mandando in onda la traccia numero 1 possiamo tranquillamente switchare e cambiare nella traccia numero 2 o nella traccia numero 3 tutto quanto utilizzando il nostro mouse come vedete nel momento in cui andiamo a cliccare su una traccia video questa viene viene cambiato il nome all'interno della nostra timeline quindi se clicchiamo sulla seconda viene cambiato il nome e allo stesso modo anche la traccia audio di corrispondenza ma come facciamo a montare beh per montare bisogna montare in tempo reale vi mostro cosa significa montare diamo il play al nostro video e adesso stiamo montando quindi la nostra telecamera adesso è questa in questo momento voglio passare a quest'altra cliccherò si sarà creato verrà visualizzato un riquadro rosso voglio ancora cambiare telecamera quindi in questo momento passiamo a questa ed ancora a quest'altra nel momento in cui vado a cliccare stop sulla mia sulla mia timeline sono stati realizzati dei tagli nel momento in cui io ho cliccato con il mouse sul monitor corrispondente come vedete adesso il riquadro è diventato giallo non è più rosso rosso significa quando noi stiamo realmente lavorando in tempo reale nel senso che se io vado di nuovo a play posso cambiare in questo momento faccio un taglio ne aggiungo un altro in questo momento ancora se faccio stop ho aggiunto altri tagli alla mia timeline questa opzione di creare dei tagli cliccando sulle varie inquadrature la posso fare solo in tempo reale in tempo reale lui nel momento in cui clicco taglierà la clip e passerà a quella che abbiamo selezionato ma ci sono delle opzioni nel caso in cui ad esempio questa clip in questa posizione non ci piace noi possiamo tranquillamente selezionare la clip scegliere la telecamera di riferimento che vogliamo ottenere e lui cambierà la clip all'interno del nostro montato quindi non è più questa ma adesso in questo momento è questa qua utilizzando lo stesso spazio d'accordo lo stesso in e out di questa clip diciamo che questa ancora non ci piace questa clip che stiamo vedendo che è della traccia numero 1 ma vogliamo quella della traccia numero 3 quindi possiamo tranquillamente cliccare sulla traccia numero 3 passando con il cursore sulla clip e lui cambierà la traccia stessa cosa vogliamo farla per esempio sull'ultima stessa cosa possiamo farla sulla traccia sull'ultima clip ci piace di più la traccia ad esempio numero 2 possiamo tranquillamente cliccare in questo caso quando lo faremo da stop quindi non in play lui non andrà a realizzare un taglio ma andrà a sostituire tutta la clip con quello presente nell'altra traccia ma abbiamo ancora la possibilità di fare altre tipologie di lavorazioni come ad esempio se reputo che questa clip è troppo lunga e voglio a un certo punto switchare quindi cambiare telecamera posso andare in play e farlo in tempo reale quindi cambiare il punto in cui mi interessa oppure selezionare un determinato punto utilizzare uno strumento quello della lametta ad esempio all'interno della mia toolbox eseguo un taglio utilizzo poi il selettore e dico no questa traccia qui voglio che sia la numero 1 quindi io posso comunque realizzare altri tagli al di là di quelli fatti in tempo reale sulla mia timeline semplicemente utilizzando i tool di premiere che ci mettono a disposizione per il montaggio fatto ciò noi praticamente abbiamo ottenuto un montaggio delle nostre clip in tempo il fatto che possiamo farlo sia in tempo reale in multicamera quindi utilizzando più tracce video contemporaneamente lavorando come se fossimo in una vera e propria regia ma con gli strumenti di un programma di montaggio quindi se sbagliamo un taglio possiamo tornare indietro e sistemarlo possiamo tranquillamente utilizzare gli strumenti che ci mette a disposizione Premiere per il montaggio classico e quindi ad esempio lo strumento di montaggio senza scarto quindi possiamo tranquillamente spostare il taglio di una clip possiamo andare anche volendo a utilizzare lo strumento di scivolamento e di slittamento però non sono adatti se stiamo montando un video in tempo reale quindi una volta sincronizzate le camere è meglio non toccarle meglio non toccare la loro posizione la loro sincronizzazione perché altrimenti poi non andranno più di pari passo ultima opzione che possiamo utilizzare una volta terminato il nostro montaggio che tranquillamente può rimanere in questo modo noi possiamo tranquillamente disattivare la visualizzazione multicam io ho inserito il pulsantino per attivare e disattivare la modalità del multicam all'interno della mia toolbox che è facilissimo da fare basta cliccare con il più che noi troviamo all'interno del nostro pannello sia del monitor programma sia del monitor storgente qui in basso a sinistra ho cliccato sul più ci sono tantissime opzioni e pulsanti che possiamo richiamare io ho trascinato quello dell'opzione multivideocamera qui così posso tranquillamente attivarla disattivarla con più comodità invece di andare nel menu ed andare ad abilitarla oppure no un'altra opzione che noi possiamo comunque utilizzare una volta terminato il nostro montaggio è di appiattire quello che noi abbiamo fatto cosa significa? andare a richiamare quelle che sono le clip originali che sono presenti nella nostra timeline multicam ma con i tagli che noi abbiamo effettuato con lo strumento multicamera basterà selezionare tutte le nostre clip cliccare con il tasto destro andare in multicamera e cliccare sull'opzione appiattisci così facendo lui andrà a prendere le nostre clip di riferimento quelle originali all'interno della nostra traccia della nostra sequenza che abbiamo nidificato all'inizio che abbiamo chiamato multicamera e le andrà a posizionare negli esatti tagli che abbiamo fatto con il nostro montato così da avere una timeline conclusa con i nostri tagli con cui possiamo ad esempio andare a lavorare poi sull'audio o ad applicare una correzione colore clip per clip clip Grazie a tutti.